Grazie, benvenuti a tutti. Un particolare grazie a Sua Eccellenza, l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpine, che ci onora della sua presenza, e un grazie molto particolare al magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ci ospita e che ci ha aiutato tantissimo anche nell'organizzazione di questo evento. Io cedo subito la parola a Monsignor Delpine, che ci rivolge il suo saluto, ma veramente noi siamo molto grati e molto onorati della sua presenza. Grazie. Grazie di questa possibilità di essere presente all'inizio e questa sessione aperta al pubblico interpreto il tema che è stato scelto per questa consultazione come la percezione di una emergenza, la percezione dell'emergenza dovuta al fatto che si sperimenta che la competenza che si acquisisce negli studi, nei percorsi accademici, la competenza è una potenzialità, ma rischia di essere una merce che si percepisce che l'addestramento, la abilitazione è una consegna alle giovani generazioni di tecniche, di metodiche, di una abilitazione a mettere in atto delle procedure, ma un corso di addestramento non trova pertinente la domanda sullo scopo, sul criterio con cui valutare l'uso che uno fa delle abilità delle abilità che ha conseguito. Quindi la competenza, l'abilità, l'addestramento rischia di essere in vendita e quindi con una sottrazione a un giudizio di valore. Quindi la dottrina sociale che i cristiani hanno elaborato nei secoli e che trova delle sue formulazioni molto sistematiche, molto comprensive, anche nel Magistero del secolo scorso e di Papa Francesco vuole pronunciare un giudizio su come viene utilizzata la competenza nell'ambito economico, nell'ambito sociale, nell'ambito politico. Dunque si percepisce un'emergenza perché c'è il rischio che quello che si impara, le abilità a cui uno è abilitato, siano una merce in vendita e che il miglior offerente, quindi le grandi multinazionali, quindi i grandi capitali, possano comprare queste competenze acquisite perché siano funzionali alle finalità del profitto, del potere, del controllo della società e delle attività. Però ecco mi pare che la Centesimus Annus con queste consultazioni, con questa presenza nelle università, è mossa da una intuizione di un percorso promettente e cioè della possibilità che ci sia che nelle università non soltanto si fornisca una competenza ma che si promuova una educazione, una capacità di inserire il proprio lavoro, la propria competenza in un quadro di valori. Quindi questo convegno, questa consultazione qui in Università Cattolica mi pare che provochi l'Università Cattolica a proporsi come un contesto educativo, forse una parola un po' troppo esigente, forse una parola un po' anacronistica, forse una parola che suscita qualche imbarazzo nella concezione almeno del secolo scorso di una scienza che può essere intesa come neutra. Però l'Università Cattolica non immagina che una scienza sia neutra, non immagina che una competenza sia una merce, non immagina che un percorso accademico sia una carriera. Ecco, quindi la Centesimus Annus, anche su mandato di Papa Francesco, vuole essere qui a esprimere questa intuizione che c'è un percorso promettente. Si deve affrontare non soltanto la questione della qualità accademica delle competenze, ma la questione educativa. Penso che in una Università Cattolica, come del resto qui è stato coltivato in tutti questi anni, in Università Cattolica questo tema di essere un contesto educativo è abituale, è a casa sua, cioè la persuasione che non basta l'insegnamento, non basta la competenza. Però il tema educativo è un tema molto complesso. Che cos'è che educa? Che cos'è che abilita una persona a fare delle scelte non solo in base all'interesse per il massimo profitto o per la collocazione professionale più promettente, ma in base ai valori. Ecco, questa educazione ha un criterio di giudizio che non è soltanto quello del successo, della carriera o del reddito. Questa è una questione complessa perché evidentemente significa che c'è una possibilità di coltivare il cucciolo d'uomo perché sia un protagonista di una storia ispirata ai valori. Allora noi penso dobbiamo riflettere su questa responsabilità educativa per renderci conto che l'aspetto educativo è una dinamica complessa complessa e dobbiamo forse reagire all'idea che basti un insegnamento, che la dottrina sociale della Chiesa e tutto quello che è collegato possa essere una materia che si limita ad essere materia di studio, cioè l'aspetto della scelta delle persone che devono dire di fronte a diverse proposte a servizio di chi metto la mia competenza, le mie risorse, ecco la scelta non è soltanto riconducibile a una riflessione, ha bisogno di una volontà, ha bisogno di un contesto comunitario, ha bisogno di una dinamica sociale che renda percorribili i valori. La proposta della dottrina sociale della Chiesa è importante ma se si limita a enunciare dei principi, a elaborare delle teorie, a fornire delle materie di meditazione è troppo debole di fronte alle sfide della società complessa e della realtà globale che si deve affrontare. Perciò mi sembra ecco di poter dire il mio incoraggiamento in questo momento per dire affrontiamo l'impegno educativo sapendo che non si tratta solo di un addestramento a fare delle cose, che non si tratta solo di una consegna, di una dottrina, di una sistematica della dottrina sociale cattolica cristiana, ma si tratta di un accompagnamento a delle scelte che forse abbiamo il coraggio di chiamare anche vocazionale. Cioè i cristiani interpretano la loro vita come vocazione, cioè come risposta a una promessa e ritengono che seguire la propria vocazione sia la strada più promettente per compiere la propria missione, per dare pienezza alla propria vita. Perciò ecco che io preferisco tra le varie terminologie che si usano alla parola formazione, che significa dare una certa forma, alla parola addestramento, che significa consegnare una certa abilità. Quel modo di intendere la vita che assume le proprie responsabilità di fronte a una promessa e che sa che le proprie competenze, cioè tutti i talenti che uno ha sono da spendere non per una carriera, non per una sistemazione, ma per il compimento di una missione. Quindi io auguro che questi discorsi un po' generali che io mi sono permesso di proporre siano oggetto di confronto e augurio per questo lavoro che voi state svolgendo e per tutta l'impresa che la Centesimus Annus compie attraverso la modalità molteplice delle sue attività e quindi auguro buon lavoro, buon pomeriggio a tutti e buon cammino a tutti gli appassionati di questa dottrina sociale che si propone nel nostro contesto come una via promettente per un'altra economia, per un altro modo di vivere gli aspetti della dinamica sociale e per un altro modo di interpretare questo tempo e il suo futuro. Grazie. Grazie eccellenza per le sue parole che sono di stimolo e di incoraggiamento a fare sempre bene e a fare sempre tanto e questo concetto della vocazione ci fa riflettere perché è una sfida non di poco conto, perché unisce tante cose e quindi è un cammino che lei ci ha indicato e sul quale dobbiamo assolutamente riflettere. Questo è un po' poi il nostro messaggio, il nostro modo di fare, trovare le azioni concrete attraverso le quali di realizzare un'educazione alla capacità di realizzare la propria vocazione, ecco, di non avere limiti, di non essere ristretto in formazione o in istruzione, ma aprirci alla realizzazione della vocazione. And now I give the floor to Professor Franco Anelli, who is the Rector of the Catholic University. Again, thanks. Grazie eccellenza reverendissima Monsignor Mario Delpini, eccellenza reverendissima Monsignor Claudio Giulio Dori, illustrissimo signor governatore della Banca d'Italia, Dottor Ignazio Visco, magnifici rettori, gentilissima e carissima Dottoressa Anna Maria Taranto, la Presidente della Centesimus Annus Propontifice Foundation, caro Professor Giovanni Marseguera, Direttore del Comitato Scientifico della Fondazione, illustri ospiti, autorevoli redatori e gentili partecipanti. Benvenuti, anzi ben ritrovati a chi da ieri sta lavorando nelle sessioni private a questa importante consultation meeting e bentrovati e benvenuti a chi si è aggiunto oggi a questa sessione pubblica. È un piacere e un onore poter ospitare questo evento importante che ulteriormente offre all'Università l'opportunità di mettersi a servizio della Chiesa ma anche di apprendere dalle discussioni che sono state svolte e che verranno svolte oggi moltissimo e di conformare il proprio ruolo e la propria funzione. I temi, la scelta del tema mette a fuoco, pone al centro la dimensione educativa, la finalità di education and training, due versanti della preparazione delle persone come elemento centrale che sta nel fuoco dell'attenzione della dottrina sociale della Chiesa. Cioè l'atto educativo, l'atto formativo, l'atto che avvia anche alla professione, alla carriera, alla vita lavorativa delle persone un momento fondamentale e un luogo appunto di interesse cruciale per la dottrina sociale della Chiesa, per chi studia i temi economico-sociali nella prospettiva dell'insegnamento del Magistero e del servizio alla Chiesa. Quindi questo è molto consentaneo alla missione della nostra Università. Già in questi giorni, in questi mesi abbiamo all'attenzione due temi che ci sono stati posti dal Santo Padre. Uno è proprio quello dell'economia, ci sarà un importante evento sull'economia Francesco ad Assisi, al quale questa Università si sta preparando, contribuendo, così come ci dedichiamo con impegno allo studio e al contributo sul documento sulle economiche e pecuniarie questioni, con uno sforzo globale e molto importante che ho visto tra l'altro, mi fa molto piacere dirlo, la partecipazione spontanea e molto partecipata di numerosi studenti a dimostrazione che il messaggio che questa Università intende dare ai propri studenti coglie nel segno e veramente sollecita e suscita l'attenzione di tanti nostri studenti, probabilmente non tutti dei 40.000, ma l'importante è almeno trovare alcune orecchie sensibili, sono davvero numerose. E l'altro tema è quello della partecipazione al processo che porterà alla sottoscrizione del Global Compact on Education, che è stato concepito, cito, per ravvivare l'impegno per e con le nuove generazioni, rinnovando la passione per un'educazione più aperta e inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione. Ora, come in queste finalità e in altre, che tra un attimo dirò si inserisce il ruolo della Università Cattolica? Forse dovremmo dire anzitutto quello in generale dell'Università, non intendo evidentemente aprire una digressione su uno scenario così ampio. Però è certo che negli ultimi decenni, soprattutto, le Università sono diventate traino e non guida dei processi di evoluzione e di incremento anche delle conoscenze. Un po' perché la ricerca di base è meno finanziata o meno entusiasticamente finanziata dalle istituzioni che sono preposte a sostenere la ricerca, che sostengono invece ricerche che danno acquisizioni di conoscenza incrementale, perché finanziano i progetti sulla base di risultati attesi e di risultati che siano specificamente applicativi. Chi abbia esperienza della redazione di un progetto europeo sa bene che, ancor più che l'obiettivo di, appunto, indagine che ci si propone, contano le verosimili ricadute, non solo, ripeto, in termini di nuova conoscenza acquisita, ma anche di qualche sorta di fallout economico-sociale, tecnologico-industriale. E questo chiaramente orienta in una certa direzione, seleziona, comprime o deprime la ricerca di base. E soprattutto nega, secondo me, qualcosa che è fondamentale della ricerca, cioè la formulazione di una ipotesi, di una ipotesi da verificare, anche ardita, anche inedita, copernicana, quella che adesso diciamo disruptive, ma la scoperta disruptive rischia di essere trovata, è vero che nella storia è sempre accaduto, trovata per caso, visto che difficilmente trovi il modo di farti finanziare qualcosa che non è o non appare coerente sviluppo delle premesse note e condivise. Ma c'è un altro tema. L'università rimane indietro, dicevo, perché è al traino delle evoluzioni tecnologiche che, se pensiamo, sono fatte molto spesso dall'industria, in parte è normale. Però, quello che assistiamo oggi con la digitalizzazione del mondo, col governo dei dati, è tutto un incremento di conoscenza, di elaborazione di nuovi processi, prassi, attività, che avviene totalmente al di fuori dei contesti accademici, o in larga parte al di fuori dei contesti accademici. Se si vuole sapere qualcosa di certi fenomeni, bisogna interrogare i soggetti operatori economici che sono su quel versante e dai quali, bisogna dire, non si ricevono risposte spesso molto eloquenti. L'altro tema è quello delle evoluzioni culturali e relazionali. E anche qui è più il mondo dei media che governa il fenomeno, piuttosto che quello delle università. E' lì che si costituiscono nuove modalità di relazione tra le persone, nuovi parametri, nuovi veicoli di comunicazione. E l'università sembra un po' a ballare, tornerò poi su questo più avanti, non voglio trattenervi più a lungo. Però, di fronte a questo fenomeno, noi abbiamo due temi di scenario che sono stati di recente posti dal Santo Padre, al quale le università cattoliche guardano anche in fondo per avere delle linee di indagine. Uno è quello della fondazione, della esigenza di creare un nuovo modello conoscitivo. Parlando alle università cattoliche, nel novembre scorso la Fiucca ha tenuto una sua riunione e siamo stati ricevuti dal Santo Padre, lui ci ha detto che occorre sostanzialmente recuperare un collegamento tra conoscenza e finalità che rimanda al tema della intenzionalità e al ruolo del soggetto in ogni processo conoscitivo. E arriviamo così, cito le sue parole, ad una nuova episteme. È una sfida fare una nuova episteme. O meglio, lui dice, non esistono esperienze totalmente impersonali, la forma mentis, le convinzioni normative, le categorie, la creatività, le esperienze esistenziali del soggetto, rappresentano una dimensione tacita della conoscenza, ma sempre presente un fattore indispensabile per l'accettazione del processo scientifico. E non possiamo pensare a una nuova episteme di laboratorio, ma della vita sì. È, ho già accennato in un intervento recente, in occasione dell'inaugurazione all'accademico, perché ritengo che questa indicazione sia veramente centrale sui compiti cui si devono dedicare le università, in particolare quelle cattoliche. Non credo che con questo si pretenda che si voglia fondare un nuovo metodo scientifico, almeno non nelle scienze dure, ma nelle scienze naturali. Il processo, la ripetibilità dell'esperimento scientifico e dei risultati è un principio fondamentale e oggettivo. Quello che però è importante, e già si vede nelle scienze sociali, è ripensare certi modelli, certi modi, e i metodi delle scienze o di taluna scienze economico-sociali, alla fine condizionano poi le scelte dei decisori politici e condizionano il modo in cui l'assetto della società. Là, a lungo per esempio, si è discusso della sempre crescente tendenza ad un approccio sempre più quantitativo e meccanicistico nelle scienze economico-sociali. Certamente la comprensione del mondo attraverso degli schemi matematici può essere estremamente utile, può essere estremamente importante, però noi ci rendiamo conto che qualcosa si sta muovendo anche in altre direzioni. La scoperta, guardiamo gli ultimi premi Nobel per l'economia che sono stati assegnati, la scoperta che l'homo economicus razionale non c'è. E se non c'è vuol dire comprendere che le decisioni economiche vengono assunte in un modo diverso. Probabilmente qui sono di nuovo stati gli operatori pratici, quelli del marketing, che l'hanno capita, che forse non sono considerati gli economisti più ragionevolmente idonei ad ambire al Nobel, ma hanno intuito come le scelte, come il mercato alla fine, pensa e si muove. Ma sono anche i temi dei valori che deve proporre un modello socio-economico. E allora forse superare la logica del corto termismo, superare la logica non tanto del profitto in termini di accettazione di una perdita, cosa che è assolutamente contraria ad ogni buon senso, ad ogni valore, ma accettare che l'attività economica e di impresa deve tenere conto di una serie di valori altri. E questo lo vediamo accadere. I bilanci di responsabilità sociale, che per anni sono stati degli eleganti fascicoli con delle belle fotografie distribuite agli annoiati partecipanti alle assemblee di società quotate, sono diventati dei valori importanti. E lo diventano sempre di più quando diventano discretivi delle scelte di investimento dei grandi investitori istituzionali. Allora i cambi di mentalità possono davvero avere delle ricadute, anche concrete, purché lo si voglia e purché dietro ci sia una elaborazione di pensiero, un nuovo criterio di selezione dei valori, che ha bisogno poi in fondo di un approccio socio-filosofico molto robusto, per far mutare i comportamenti. Il secondo tema che ci pone il Santo Padre è quello della digitalizzazione, che anche qui il tema è talmente noto a tutti che sarebbe offensivo se mi trattenessi nello spiegarne l'andamento. Ce ne rendiamo perfettamente conto. Cambierà il lavoro, cambiano le modalità di relazioni tra le persone, cambia, si creano valori economici nuovi, i dati. Spiegare a qualcuno che i dati sarebbero diventati merce per la quale qualcun altro avrebbe pagato denaro qualche decennio fa sarebbe sembrata una pensata abbastanza singolare. Oggi invece sanno tutti che non è così, ma c'è il problema ovviamente della loro gestione e qui anche le regole faticano a tenere dietro ai processi che sono in atto e ai soggetti opachi che li gestiscono. Da questo punto di vista ci sono, e arrivo alla conclusione, dei mutamenti veramente profondi, perché quando uno scienziato famoso in questo settore, Floridi, parla del soggetto come ente informazionale, ci rendiamo conto che l'era digitale, che è città e che è menzionata nel vostro titolo, sta veramente cambiando concetti basilari dell'umano. Il concetto di libertà, il concetto appunto addirittura di relazione intersoggettiva, il concetto di relazione causale, il concetto di responsabilità, chi è responsabile di quello che fanno certi meccanismi, e lo stesso concetto di soggettività. In un suo lavoro recente, Giuseppe Maria Eschirol dice, sostiene l'idea della resistenza intima, l'idea del recupero di un modello di vita più volto all'interiorità, e osserve, accusa in una riga soltanto di passaggio, dice che le università sono dei soggetti troppo inclini a rendersi attuali. Di solito in attuale è un aggettivo non positivo, attuale invece è il polo positivo, invece dice attuali, nel senso di vocati a inseguire l'esistente, i processi dell'esistente, piuttosto che, come dicevo all'inizio, provare a governarli con una apposita, nuova, profonda elaborazione di pensiero. Allora, la domanda con la quale concludo è, le inattuali, le università cattoliche, riescono ancora ad essere invece, nel senso che ho detto, inattuali? Io credo che ci provino, noi ci proviamo e nell'ambito della FIUG ci stiamo provando. Cosa vuol dire essere inattuali qui? Vuol dire essere una voce diversa, una voce che ha la forza della fede, il che non significa sperare che la provvidenza colmi i buchi dei nostri bilanci, significa, invece, avere fede nelle proprie convinzioni, essere convinti di ciò che andiamo affermando ed essere convinti di formulare una proposta alternativa. Per farlo, un elaboratorio di pensiero importante come questa fondazione è un ausilio prezioso, quindi nuovamente vi ringrazio per essere qui oggi a discutere e vi auguro buon lavoro. Grazie mille, grazie mille per il vostro discorso. Ora, solo un po' parole per la mia parte e poi vi presento alle persone che ho accettato di essere qui come parlanti. La Centesimus Annus Pro Pontificio Foundation was established with the Motu Proprio by St. George Paul II on June 5, 1993 and what I wanted to share with you is some information about the Centesimus Annus and what the foundation is doing. It's a non-profit Vatican Foundation directed by lay people and its mission is to disseminate the social doctrine of the Church and the Magisterium of the Supreme Popes and also support the charitable work of the Apostolic See. In pursuing its statutory objectives, the foundation organizes consultations like the one we are keeping today with a closed-door meeting and world-renewed experts in the fields of economics, finance, social ethics and representatives of institutions and civil society. We also organize publications and courses in Catholic social doctrine for lay people and priests and the foundation's Biennial International Economy and Society Award which I must say that starting this year also includes a provision of scholarship and this we can do thanks to some sponsors that have helped us with the funds. The Centesimus Annus work and the issues we address are inspired by the Magisterium of the Church and the Holy Fathers with encyclicals, the recommendation to the foundation. In recent years, we have dealt with the fight against poverty, unemployment, migration, consumerism, inequality and the challenges posed by innovation in science and technology including the impact of the digital revolution and artificial intelligence on the quantity and quality of work and the relevant ethical issues that are linked to the artificial intelligence diffusion. Following the indications of the encyclical Laudato Si and the pressing invitation of Pope Francis, our goal since last year has been to study and support the development of a new model of economic progress and that is one model that is inclusive, supportive and sustainable. A model of economic progress that inspires integral ecology. human, economic, social and environmental. One that can help to reduce or eradicate some of the present human hardship that have emerged. In pursuit of these complex and challenging objectives, the foundation decided last June, June of 2019, to focus his work in 2020 on two fundamental areas, education and training. These two areas are essential to the progress of change individual and collective behavior, necessary for any change of project and indispensable for the reduction of economic and social inequalities. I want to quote a passage of Laudato Si and many, Pope Francis says in Laudato Si 202, many things must be changed, but it is we, human being, above all, who need to change. We lack an awareness of our common origin, of our mutual belongings, and of a future to be shared with everyone. This basic awareness would enable the development of new conviction, attitudes, and form of life. A great cultural, spiritual, and educational challenge stand before us, and it will demand that we set on to the long path of renewal. This is exactly what his excellence said before. I say hello and welcome to his excellence the Archbishop Nunzio Galantino who joined us. Thank you. Thank you. and also Professor Ranen said before. So the complexity of today's society requires discernment and knowledge, and it requires a community of entrepreneurs, managers, financial operators, representative of institutions, politics. We have long discussed this morning the necessity to prepare, to form politicians, and government. who are guided by ethical principles and attention to the needs of all people and environmental protection. Our individual and collective vocation of steward, beingings, with each person and it's carried out on consumers, workers, managers, and in families, parishes, schools, companies, unions, NGOs, towns, cities, provinces, and regions, nation, and internationally. The path of stewardship before us for each person is clear. It begins with education, take us through concern and the commitments, and leads to action. Laudato Sii is our compass as we care for our home and communities. Aware of the importance of instilling a new way of thinking through an important educational training movement, we organize with representatives of Italian and foreign universities and companies a closed-door consultation, as I mentioned before, which was held yesterday afternoon and this morning and today's conference on ethos, education, and training avenues towards equality and ethical behavior in the digital era. We know that speaking about education and training should mean speaking about a full range of factors, including families and all types of schools. However, the limited time available has required us to make a choice and we have decided to start with involving universities, in particular Catholic universities but not only, and business people. The questions posed to the floor are what are universities and businesses already doing and what can they further do to create an environment, a world of study, research, and work where ethical behavior is encouraged, appreciated, promoted, advanced, and rewarded, and where the goals are not individual interest but the common good. What are the concrete obstacles met in trying to do so? Well, we have approached these two questions during the, this morning and yesterday afternoon, but we can approach it also today. this afternoon's conference has two-fold objectives. Make the main results of the closed-door consultation public in order to share the result with a large audience. And second, stimulate a broad debate on what is necessary to do to promote through education and training a model of development based on solidarity, justice, and respect for all human beings and environment. And how to prepare young people to work in a digital world, giving them competencies and ethical basis, as His Excellence told us before. He spoke of values, he spoke of a vocation. The conference is organized in two parts. In the first part, we will hear renewed experts who will analyze if and how it's possible to build a common positive future through education and training. and in this first part, we will have Elena Becali, who is the professor and the dean of the faculty of banking, finance, and insurance, that will give us a summary of the results of the two closed sessions. Then we will have Sister Ellen Alford, who will speak of building a common future through education and research. and the governor of the Bank of Italy that I thank especially because he's really my boss. It was my boss for a long period. He will speak about education and the digital world. And then his excellence, Monsignor Nunzio Galantino, we are welcomed before. He will speak about youth poverty and social exclusion, the difficult constructions of the future. I thank you very very much indeed for your presence. And then we will follow with the second part around the table that will tackle a very topical issue, how to prepare young people for work. And we will share by Giovanni Marseguerra, who is a coordinator of scientific committee of the Centesimus Annus Propontifice, and the panelists are Philippe Bourdain, rector of the Institut Catholique de Paris, Fernando Felipe Sanchez Campos, rector of Università Catholica de Costa Rica, and Antonino Santoni, CEO CISCO Italy. I also thank all of you. And then we will have the conclusion, Professor Quadro Curzio, who for many years has been the president of the Scientific Committee of the Foundation, he will close the conference. I'm sure that we will receive significant input and insight for future investigation, and above all, indications on the concrete action to be taken, as we already heard this morning and yesterday afternoon. We have decided to participate as a foundation in the existing network, I wanted to tell you this because I think we can do something very useful, so I said we have decided to participate as a foundation in the existing network of catholic universities that has an aim to use scientific research to create innovation, useful innovation, worth innovation, and thus to begin common interdisciplinary research on how to realize a new model of development inspired by integral ecology. And now I give the floor to Professor Bacalli. Thank you very much. Thank you. Thank you. many thanks first of all to the chairwoman of the foundation, Anna Maria Tarantola, for inviting me to summarize the main outcomes of the debate that over the last two days has occurred as for the role of education and training in fostering new goals and new models oriented to solidarity, justice, and respect. Not an easy task, given that the amount of ideas and the quality of ideas that emerged over the last two days was really significant, but I will try to make a summary as effective as possible. The first topic I would like to emphasize is education as a strategic investment. To foster a sustainable and integral development in the long term, it is strategic to invest in education as a crucial tool for preparing the younger generation. And this concept of education as a strategic investment emerged several times, several times over the last two days in the debate. And currently, the 2030 Agenda for Sustainable Development, that is full of trade-offs, we said this morning, recognizes that education is essential for the success of all 17 of its goals. Such a strategic role of education arises for at least two needs. The first one is to elaborate new models of economic and social development, and the second one is to bridge the gap of inequality. Let's start from the first need to elaborate new models of development. We need to conceive economics, finance, banking as based on an ethics focused on the person and on his relational nature, not anymore as a rational agent. and in this sense we are required to overcome some common conceptual errors, such as the reduction of profits to the monetary optimization of income, which forgets goods such as trust, justice, respect, and cooperation, the constraints of business within the boundaries of profit maximization, and the reduction of well-being to the accumulation of money. there is much more. And to elaborate a new model of development as noted by the Holy Father in its address to the members of the diplomatic corps accredited to the Holy See, adults do not have to abdicate their proper educational responsibilities in order to guide young people to spiritual, human, and social maturity. We are asked to respond to this invitation of the Holy Father and to serve more as the chairwoman Anna Maria Tarantola reminded us at the very beginning of our today's session. The second need is to bridge the gap of inequality. As emphasized extensively over the last two days, it is necessary not only to implement innovative economic policies in tax matters and public investments, but more importantly to guarantee access to education. income polarization and more generally unequal distribution of wealth, unequal distribution of opportunities is documented in every country over the last decade. And income inequality is clearly associated to different opportunities to access to education. Education makes the difference in terms of an ability to generate material benefits and social outcomes. And this is supported by many data that we have been analyzing. In a nutshell, school education promotes growth, reduces poverty, reduces inequality. All this highlights the material value creation by higher education and somehow also the possibility to have a monetization of such a value. Despite such documented social and economic value of higher education, the future of university education is uncertain due to four main forces that have been analyzed, technological innovation, radical professionalization, globalization, and the institutional disruption of the knowledge society. In short, to address the anthropological transformation, the so-called era of change, in the words of the Holy Father, due to the evolution of new technologies and sciences, education plays a strategic role in rethinking categories and in reframing models. And so we come to the second point that has been discussed, that is the global compact in education. Given the unprecedented rapid and radical transformation, the task for education is very challenging, and we are all called to participate in development of a new educational agenda. To this end, the Holy Father promotes next 14 May a meeting on reinventing the global compact on education, with the aim to renew, and I quote, our dedication for and with young people, renewing our passion for a more open and inclusive education. Given the complexity of this task, as clarifies the Holy Father, we need an educational alliance, based on and educating village. For an education that integrates and respects all aspects of the person, combining studies and everyday life, teachers, students, families, civil society. In line with the idea to find other ways of envisioning economics, politics, growth, and progress, the human person has to be at the center of this village. The new educational agenda cannot disregard the human person, and due to such a radical depth of the outcome, this new agenda strikes and commits all institutions involved in the educating village. Following on, the question of the seventh consultation of the founders challenges the very vocation of the university. Universities do not just have to prepare qualified professionals in various disciplines, but the proponents of the common good, and creative and responsible leaders and politicians with the proper vision of the person and of the world. It was said that in higher education we need to be prepared to train not only the best professional of the world, but the best professional for the world. To this end, universities are asked to be open to examine the aims and methods using the educational mission, and each discipline is asked to question its why. So in a way we are asked ourselves, are we teaching the right things? Are we teaching in the right manner? So we need to question the what and the how. As for the what, as suggested by the rector of Università Cattolica, also in the opening ceremony of the academic year last November, the mission of universities is, and I quote, to develop new cultural, social, and moral codes that bring the person back to the center. This cannot mean abandoning the experimental method in the empirical sciences. Rather, we are asked to promote thinking based on value system that act as terms of reference. In other words, the identity and mission of universities, and especially of Catholic universities, revolves around the proposition that Isabel Capelloa named, create value with values, that enlarges the mainstream view of material value creation via education. It's not just the creation of a better materiality for each human being, but it is something much broader. This requires to address two key questions. What are we good at, and what are we good for? As for what are we good at, we need to look for the truth via research and teaching. And also, as for the what are we good for, we need to contribute to the good of society. And these are the two main questions universities are required to ask nowadays. In a world where traditional jobs are undergoing an unprecedented change, especially Catholic university education should aim to provide adequate squeeze that may promote the employability, not just for the current jobs, but especially for the future jobs, and should do so by placing our values as a reference. As for the methods, the how, universities should not reduce education to technical instruction or to simple transfer of concepts or information. Universities should do much more. Universities should promote education methods that embrace the three kinds of language. In the words of the Holy Father, the language of the mind, the language of the heart, and the language of the hands. Therefore, universities should not just develop scientific and theoretical knowledge, but also the student's conscience and practical abilities. Relatedly, technological and digital innovation challenges education methods very much, given that it can rapidly disrupt the medium of instruction, forcing universities to adapt the one-to-many person-based relation to a new method that is the many-too-many learning environment. However, education at the same time needs the digitalization as a mediator. So the idea is that technology doesn't have to become the aim per se, but it has to become the medium per education. And if we do so, there are many possible advantages in teaching that might arise from new technologies, such as, for example, the application of artificial intelligence students that could help the traditional teaching methods by individualizing the pedagogical approach and by providing an ideal platform, especially for mathematical and scientific subjects. Education needs digitalization also because the number of graduate students is really increasing over time. According to the OECD projections, the global population of university graduates is expected to nearly double over the next decade, to reach about 300 million graduates by 2030. This number is impressive. And to be able to serve such an increased number of students in light of the global mobility of students, methods based on online courses will be increasingly needed. This is not a choice. But at the same time, this determines a challenge for university to promote the language of the mind, the heart, and the hands, and to avoid emptying the teaching of the personal dimension, universities will need to increasingly integrate the traditional person-to- person method with technology-mediated approaches and online delivery channels by imagining innovative and more sophisticated blended methods with with the person at the center. We need creativity in inventing new teaching methods. And so I arrived to the fourth point that was discussed over the last two days, that is what is being done today within companies and banks. The appeal of the Holy Father for a more open and inclusive education equals the sustainable development goal number four that can be effectively summed up as leaving no one behind. For this purpose, companies and banks can play a role by supporting and stimulating public institutions in fostering access to education and lifelong learning in application of the subsidiarity principle. So it's not that companies should delegate, well, better, the public should delegate to companies, but companies should support the public policies. The role appears especially important in light of the perceived lack of prominence of universities in national strategic planning policies. Just consider that in Europe, national accounts do not include education investments, rather in consumption. And in light of the attack on expert culture by disruptive entrepreneurs. As for the access to education and long public intervention, corporate involvement could provide additional resources to private and public institutions. This is especially important given that the cost of secondary schools and universities in many countries has increased very beyond the reach of many families. Companies and banks' initiative currently span across several lines. We had many examples in the discussion yesterday afternoon. Financial enabler of access to education, financial enabler of a better education and research, or recruiting enabler. As for lifelong learning, given the extent and rapid profession transformation, it is crucial that public and corporate policies both help workers to manage the transformation. And companies and banks are currently taking many initiatives, especially in terms of reskilling and and upskilling their employees via training. Nevertheless, there is also another general question that we need to ask, that is, what is research and education doing for the corporate sector? This is especially important because we are in a context with a lack of trust in business and managers. Companies continue to increase their engagement on issues of social responsibility, but despite the increased engagement, managers and companies are expected to move more and more, and they tend not to be widely trust. We first need to acknowledge that a certain model of capitalism has failed, and new frameworks, as we said at the beginning, are required. Although profits are still to be considered important, the shareholder primacy norm, advocated by Milton Friedman, is put into question. Profits and shareholder values cannot be put aside, but delivering value to customers, investing in employees, dealing fairly and ethically with suppliers, supporting the communities in which the company works, that are exactly the main statements of the U.S. business roundtable, held last August, represent good policies to maximize the long-term value of a corporation against the short-term view, although they are not easy always to achieve in a context of global corporations. Here, the intersection with the research and teaching in business schools and universities is very evident. It becomes the responsibility of many business schools and universities to elaborate and disseminate innovative frameworks that cover a plurality of conceptions of the purpose of the corporations and the economy. At this regard, there is no shortage of frameworks alternative to the mainstream shareholder theory. Just refer to the idea of social enterprise, the triple bottom line framework that accounts for people, profits, and planet. Michael Porter's well-known framework of creating shared value, or corporate social responsibility, or the very recent Nien-Ise social value proposition. All this finds echoes in the experimental approach for the fight against global poverty by Kramer, Benarier, and Duflo, Nobel Prizes in 2019, or in the behavioral economics by by Richard Thaler in Nobel Prize in 2017. In short, we have new methods and new topics investigated in the research of universities. So, education and research can help corporation and economy in rethinking the concept of enterprise and the concept of economics as an entity harmonizing shareholder value with and social value with an ethical focus on the person, its relation, and the common good. Vice versa, corporation can help education in application of the subsidiarity principle, not in substitution of public policies. Let me briefly conclude with an example or an experiment of something we are doing currently at Università Cattolica, as mentioned at the beginning by the rector, jointly with the Archdiocese of Milan. Rethinking the framework for and with the young people, we have launched a multi-voice dialogue to enhance the document economica e pecuniaria questiones in an educational perspective. Built as an interdisciplinary project aimed at all students from all disciplines of the university and appropriately recognized in the university curriculum, the project is based on laboratories, labs, involving together students, academics, and industry operators. Students here become the pivotal player. They are engaged in reframing economic models and they are equipped with the right tools and the right guidance in order to be engaged in such a challenge task. The response to the proposal was actually surprising. We had more than 700 students joining the experiment and about 80 professionals and academics involved in in the project. This means that there is a desire for reflection and construction which deserves, I think, to be supported with intelligence and decision. Thank you. Now I leave the floor to His excellence, Nunzio Galantino. Thank you. Buonasera a tutti. Io parlerò in italiano perché se parlassi in inglese infliggerei una penitenza che non conosco tutti, certamente non meritate. La Presidente di Taranto l'ha già indicato, già fatto conoscere il tema del mio intervento, la povertà e l'esclusione sociale, la difficile costruzione del futuro. Io cerco di introdurre la mia riflessione innanzitutto presentandovi qualche elemento che ci permette di liberarci dalle semplificazioni che in genere riguardano la povertà e per poter guardare alla povertà quella che conosciamo, poterla guardare con realismo. Innanzitutto un elemento, gli indubbi progressi registrati negli ultimi dieci anni sul fronte della riduzione della povertà, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, non hanno annullato le conseguenze del fenomeno. Un secondo elemento, o meglio ne hanno, anzi ne hanno per certi versi fatto emergere aspetti nuovi rispetto al passato. Un secondo elemento, la povertà piuttosto che diminuire nei paesi sottosviluppati, nei paesi sviluppati meglio, è aumentata e interessa in modo drammatico i giovani e le donne. Terzo elemento, alla povertà economica si affianca quasi sempre quella sociale meno rilevata e anche meno studiata. Quarto elemento, aumentano le disuguaglianze soprattutto nei paesi sviluppati e si accentua la polarizzazione tra povertà e ricchezza, tra poveri e ricchi. Ancora, gli ultimi dati statistici, nel testo che ho consegnato, vengono riproposti, meno gli ultimi dati statistici, e quegli ultimi dati statistici mostrano che l'obiettivo di azzerare la povertà entro il 2030, come previsto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, questo obiettivo è ancora lontano, è ancora da venire. Come ha detto il Presidente della Banca Mondiale, abbiamo ancora molta strada da fare, se vogliamo che la povertà scompaia in tutte le sue forme e in tutto il mondo. Ed ecco l'affermazione che a me pare la più consistente, la più importante. Per promuovere una crescita inclusiva, dobbiamo investire sul e nel capitale umano. Un compito questo che evidentemente interpella tutti. E a proposito di questo compito, che riguarda tutti, permettete che dica tutta la mia ammirata condivisione per la scelta fatta dalla Centesimus, di analizzare in questo anno, del 2020, le tre vie, lo ricordava prima la Presidente, le tre vie che permettono di inserirsi pienamente nel progetto di sviluppo di una ecologia integrale. Lo sapete, ci è stato ricordato, le tre vie sono l'educazione, la governance e i modelli di business. Questa circostanza, in questo convegno, si è scelto di centrare il focus sulla prima delle tre vie, l'educazione. Bisogna farlo però in maniera consapevole, come hanno scritto i vescovi italiani nel documento Educare alla vita buona del Vangelo. I vescovi ricordano che bisogna approcciare, bisogna interessarsi della educazione in maniera consapevole, consapevoli delle difficoltà che l'educazione, dicono i vescovi, si trova oggi a fronteggiare. A queste spicca lo scetticismo riguardo alla sua stessa possibilità. Stessa necessità addirittura. C'è qualcuno che dice che non è necessario educare, anzi è una violenza farlo. Continuiamo i vescovi, i progetti educativi divendono sempre più programmi a breve termine. Penso siano rimasti soltanto i vescovi italiani a credere che si possano fare progetti o programmi pastorali a dieci anni, anzi adesso li abbiamo ridotti a cinque, mi pare. I progetti educativi divendono sempre più programmi a breve termine. D'altra parte una corrente fredda scuote gli spazi classici della famiglia e della scuola. Noi stessi, concludono i vescovi, ne siamo turbati e sentiamo l'esigenza impellente di ribadire il valore dell'educazione proprio a partire da questi suoi luoghi fondamentali. A questa consapevolezza io ne aggiungo un'altra. L'educazione non si limita a trasmettere il sapere cognitivo, lo sappiamo tutti, e si riguarda anche il sapere socio emotivo, quello comportamentale. L'educazione mira a costruire un capitale umano che risponde ai bisogni del nuovo contesto, ma mira anche a ricostruire il capitale sociale. Ossia, come leggiamo nella Laudato Si al numero 128, costruire quell'insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole indispensabili per la convivenza civile. Codoro uno sguardo al tema dell'educazione che prende atto di quello che ho detto fin qui e che aiuta a considerare l'educazione una leva importante per superare la povertà e l'esclusione sociale. Educazione. Ecco che contenuti dare oggi, oggi a questa parola. Educare, o dire innanzitutto trasmettere, comunicare, testimoniare in modo credibile ed efficace, attenti, ragioni per vivere in maniera significativa. Questo siamo chiamati a fare. Trasmettere, comunicare e testimoniare in maniera credibile ed efficace ragioni per vivere in maniera significativa. Per questo uno degli aspetti più preoccupanti, a mio parere, della emergenza educativa con cui ci confrontiamo è la distanza tra la domanda di ragioni per vivere e le risposte che a questa domanda vengono fornite dai singoli educatori, da quelli che alcuni si ostienano a chiamare le agenzie educative. Aggiungo inoltre che tra la richiesta di ragioni per vivere e le risposte a questa richiesta possono innescarsi veri e propri cortocircuiti. Ecco, per spiegare meglio quanti danni possa fare il parlare di educazione senza porsi il problema della coerenza tra domande e risposte, io vi propongo un paio di riferimenti. Uno letterario, diciamo così, è uno biblico. Il primo, quello letterario. Ricordando le vittime della prima guerra mondiale, soprattutto quelle perite presso la trincea del bacino parigino del fiume Marne, Georges Bernanot attribuisce ai più giovani tra i morti una mara constatazione. Ascoltate, abbiamo chiesto ai nostri padri una ragione per vivere ed essi ci hanno mandato a morire nelle trincee. Ecco, la domanda di ragioni per vivere, la domanda cioè di ragioni per non morire rivolta da quei giovani che sono in fondo quelli di ogni tempo, non solo non è stata accolta quella domanda dai loro padri nel suo carattere più profondo, ma è stata dirottata simbolicamente sul mar, sul fiume Marne, cioè su una trincea che ha visto nel corso di un paio di giorni la morte di 300.000 giovani francesi e tedeschi. Non vorrei che dinanzi ai preoccupanti segni della emergenza educativa finissimo ancora una volta anche noi per rassegnarci alla inaluttabilità della trincea del fiume Marne, che a questo punto diverrebbe il simbolo della nostra incapacità ad accogliere le domande reali, diventerebbe anzi simbolo del tradimento di quelle domande. I fallimenti sul piano educativo e la conseguente dichiarata emergenza educativa rappresentano il prezzo, il prezzo che si paga tutte le volte in cui pur continuando a proclamare la centralità della parola e della persona, se ne semplificano fino a banalizzarli i caratteri e i valori. Non è questo il momento di riprendere dati di antropologia filosofica o teologica che dovrebbero, che devono fungere da punti di riferimento per una corretta azione formativa. Io mi limito qui a riproporvi un segmento, ecco qui allora il secondo rimando. Lo faccio rimandando a un segmento della vicenda umana di Giobbe, con l'intento di cogliere con voi uno dei caratteri fondamentali dell'uomo contemporaneo e quindi un punto di partenza imprescindibile per uscire dall'emergenza educativa e percorrere la strada che può fare di noi dei veri educatori, gente cioè che con il proprio impegno scientifico, di presenza, di parola, di testimonianza, riesce veramente a ridurre la povertà, riesce veramente a ridurre la esclusione, contribuisce a ridurre l'esclusione sociale. Torno a Giobbe, alla vicenda umana di Giobbe. Nel pieno della sua drammatica vicenda il patriarca biblico, lo sappiamo, va alla ricerca di risposte sensate a domande reali, domande conficcate nella sua pelle. Quando tre suoi amici vanno a trovarlo per consolarlo, Giobbe si ribella e rifiuta in maniera decisa le loro spiegazioni religiose nella forma, ma ideologiche nella sostanza. Nello stesso tempo però, in questa terribile condizione, il patriarca biblico cosa fa? Non smette di porre domande. Non smette di porre domande a Dio. Non smette cioè di cercare la relazione, la relazione con lui. Come patriarca biblico, l'uomo contemporaneo è un uomo sempre più capace di porre domande di senso. Attendi a non dimenticare questo. Attendi a non essere superficiali, di fronte ai nostri ragazzi soprattutto. L'uomo contemporaneo è sempre più capace di porre domande di senso. È un uomo che ha tanti modi per esprimere il suo bisogno di relazioni, autentiche. Alla luce di questi due rimandi possiamo concludere che al realismo delle domande e al bisogno di relazione fanno seguito, devono far seguito risposte sensate, perché purtroppo non sempre a domande reali fanno seguito risposte sensate. Anzi si innescano quei meccanismi che stanno portando un po' tutti a parlare di emergenza educativa. E se è vera la continuità tra la vicenda di Giobbe e uno dei caratteri dell'uomo contemporaneo, stiamo di poter affermare che il primo passo per uscire dall'emergenza educativa è il recupero della relazione, che nel nostro contesto assume il carattere di una relazione educativa. Se potessi dare un suggerimento parlando della prima via per realizzare una ecologia integrale e guardando al quadro antropologico contemporaneo, e qui la identificherei questa prima via per uscire dall'emergenza, la identificherei subito con la relazione educativa, piuttosto che con il semplice riferimento alla educazione. La relazione educativa non è solo una tra le tante componenti dell'esperienza umana, essa è la modalità con la quale la vita umana cresce e si umanizza, si compie ed evolve verso il suo fine ultimo. La ricetta educativa di Papa Francesco, se così vogliamo dirla riduttivamente, ha questo proposito, è semplice, è abbastanza semplice e si può ricostruire a partire dalla sua opera quotidiana. Ripercorre spesso, ricorre spesso nei discorsi del Papa il riciamo all'unità multiforme della persona, fatta di pensiero, sentimento e azioni, lui ricorda la mente, il cuore e le mani. Appare inoltre evidente l'importanza dell'esempio e della testimonianza personale che ha fatto di lui un comunicatore, quindi un educatore, quanto mai efficace, quanto mai ascoltato. Tutti hanno potuto apprezzare nei suoi discorsi l'uso di immagini semplici ed evocative, sappiamo tipiche della pedagogia gesuitica. E ancora non si può trascurare lo sguardo aperto che lui ha e ci invita ad avere su tutta la realtà umana e l'invito a tenere ugualmente aperto l'orizzonte di un'azione educativa che non trascuri nulla di ciò che è autenticamente umano. Ovviamente e infine non può mancare l'attenzione ai piccoli e ai più deboli, che per la loro condizione sono i naturali destinatari di qualsiasi processo educativo. E proprio a proposito di questo sguardo attento ai piccoli e ai più deboli, destinatari naturali del processo educativo, a farci fare un passo avanti nella direzione indicata dal titolo Affidatomi, che ci porta a prendere atto che oggi più che mai alla povertà si affianca il fenomeno della esclusione sociale. La situazione delle persone svantaggiate e abbandonate ha assunto un rilievo particolare in termini sia quantitativi sia qualitativi. L'esclusione sociale è un tipo nuovo di povertà, alimentato dal modello di sviluppo e della cultura dominante. L'esclusione è discriminazione, l'esclusione è impossibilità di acquisire la cittadinanza e la residenza. L'esclusione è in fondo sentirsi ed essere esclusi da opportunità di crescita e di sviluppo integrale. È in fondo quello che si sperimenta in quelle che il Papa chiama le periferie, luogo o meglio luoghi caratterizzati dalla cultura dello scarto e della esclusione. Di fronte ad analisi accurate, io qui riporto in nota nel testo che ho consegnato alcuni elementi, di fronte ad analisi accurate che registrano in maniera puntuale la presenza della cultura dello scarto e la evidenza dell'esclusione, il nostro compito qual è? Il nostro compito è innanzitutto quello di vigilare. Vigilare perché queste amare realtà, povertà, esclusione, periferia e scarto, non vengano ridotte a parole passepartout, parole da esibire in dibattiti pubblici e in programmi elettorali, per lo più oggetto di attenzione a intermittenza e di strumentalizzazione sistematica. Non è certo questa la strada indicata dal Papa, il quale invece nella laudato sì al numero 14 mette in guardia degli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche tra i credenti che vanno dalla negazione del problema all'indifferenza, alla rassegnazione comoda o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. La povertà e l'esclusione, soprattutto l'esclusione dei giovani, sono aspetti particolarmente preoccupanti. Alla povertà economica, infatti, qui si aggiunge la paralizzante paura del futuro per manganza di lavoro, per l'incertezza sulla professione da intraprendere e sulla precarietà. Condizioni, lo sappiamo, che ritardano, a volte addirittura impediscono il crearsi di una famiglia e spesso mettono in difficoltà la stessa stabilità dei sentimenti. Vado verso la conclusione. Conoscere le cause del permanere della povertà e dell'esclusione sociale non basta. Per questo le ultime considerazioni ho posto sotto un titoletto dalla conoscenza o dalle conoscenze all'azione. La conoscenza non basta se, dice Papa Francesco al numero 109 della Laudato Si, la conoscenza non basta se non ci si rende conto a sufficienza di quali sono le radici più profonde degli escuribili attuali che hanno a che vedere con l'orientamento, i fini, il senso e il contesto sociale della crescita tecnologica ed economica. La risposta a questa amara constatazione del Papa può e deve venire da chi ha la responsabilità di governance ai diversi livelli. E qui tra di noi ce ne sono tanti e ripeto ai diversi livelli che ha responsabilità e chiamato a progettare e promuovere interventi per arginare i danni conseguenti a una globalizzazione non governata e a uno sviluppo scientifico e tecnologico dominato dal paradigma tecnocratico. Gli ambienti che reclamano maggiore attenzione in vista della riduzione della povertà e dell'esclusione sociale sono quelli relativi all'indebolimento della coesione sociale, frutto di relazioni indebolite, liquide, quasi inesistenti. Sono gli ambiti che riguardano la questione demografica e l'emergenza ambientale. L'emergenza educativa della quale con tanta forza ha parlato Papa Benedetto investe anche questi ambiti. Tendi a non ridurre il tema dell'educazione alla scuola o agli oratori. Non ci muoveremo di un millimetro se continuassimo ad avere questo nella nostra testa. Consentire a tutti di accedere a un'educazione ben costruita è un potente motore per ridurre la povertà e l'esclusione. Lo è in particolare nel contesto attuale dove le conoscenze richieste sono mutate radicalmente e continuano ad evolvere. E ai giovani, ai nostri giovani si chiede di essere flessibili, innovativi, responsabili. Certo, accedere a una buona educazione è costoso. Non ci facciamo illusioni. Accedere a una buona educazione è costoso. Per questo chi coltiva una particolare sensibilità, e se siamo qui è per questo, per questo chi coltiva una particolare sensibilità e possiede strumenti culturali e risorse per farlo, deve adoperarsi concretamente, fattivamente, perché vengano attivate iniziative di partneriato pubblico-privato, accrescendo ad esempio la disponibilità di borse di studio. So che la Centesimus in questo senso si è impegnata ed è importante. È importante per dare gambe, gambe reali a quello che pensiamo, a quello che diciamo. Quindi, iniziative di partenariato pubblico, dicevo, disponibilità di borse di studio, credito ai giovani a basso costo o a costo zero. Pur riconoscendo che vi siano già esperienze in atto in questo senso, non si può tacere che queste azioni difficilmente sono tra le priorità programmatiche di tanti governi, ma non mi rivirico soltanto ai governi nazionali, anche ai governi delle nostre realtà, delle nostre strutture. Dovremmo un po' prenderle più sul serio, queste realtà che poi ci mettono di fronte a una verifica concreta, ci fanno rispondere se ci siamo o non ci siamo, rispetto a quello che diciamo e stiamo facendo veramente seguire dei gesti concreti, perché queste realtà si quantificano. Le borse di studio si quantificano, l'apertura di credito ai giovani si quantifica, dobbiamo andare un po' alla ricerca di iniziative che a un certo punto richiedono una verifica non teorica ma pratica, io direi anche quantitativa. Dobbiamo andare alla ricerca di queste realtà, dobbiamo andare alla ricerca di questa realtà. E che dire poi dei ritardi che al di là di slogan di circostanza si registrano a livello di investimenti su progetti che vedono le donne come principali protagonisti. Molto spesso, lo sapete tutti quanti, per l'acquisto di armi. Quanti impedimenti trovano ancora le donne che vogliano avviare un'attività economica per l'accesso al credito? Certo, qualcosa sta cambiando, dobbiamo riconoscerlo, sta crescendo ad esempio il numero di quanti riconoscono che l'attuale sistema economico è un sistema instabile e non in equilibrio e che è necessario cambiare paradigma. Aumenta il numero di imprese che hanno, che anche su sollecitazione degli investitori, dichiara di valutare l'impatto della propria attività e di voler adottare i criteri del sistema di gestione dell'energia. Tra questi vi appunto, come ricorda il World Human Forum, l'istruzione e quindi la formazione e l'educazione. L'educazione è uno dei sette fattori che porta alla felicità, insieme, lo sapete, al reddito, alla salute, alla libertà di iniziativa, all'assenza di corruzione, la qualità di relazioni alla gratuità. Fattori che non crescono, ricordiamoci, non crescono spontaneamente, non ci vengono dati come i cromosomi. Sono fattori che non crescono spontaneamente e che richiedono l'impegno di tutti, nella direzione indicata da Papa Francesco, nella laudato sì. Chiudo così, con le sue parole, quando il numero 220 scrive, facendo crescere le capacità peculiari che Dio ha dato a ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce a sviluppare la sua creatività e il suo entusiasmo. Bello questo. Cioè questo impegno che diventa creativo, questo impegno che mette entusiasmo, che non è una risposta demagogica oppure dovuta a certi fatti. Un'iniziativa o iniziative e risposte creative che vivono di entusiasmo e trasmettono entusiasmo. Continua il Papa al fine di risolvere i drammi del mondo e chiude. Il credente non interpreta la propria superiorità come motivo di gloria personale o di dominio irresponsabile, ma con una diversa capacità che a sua volta gli impone una grave responsabilità che deriva dalla sua fede. Grazie. Well, thank you very much. Good afternoon. Let me first thank the Centesimus Annus Foundation, Profontevice Foundation, for organising this meeting and its president, my former colleague Anna Maria Tarantola, for her kind invitation. Over the past 30 years, the world has undergone a radical transformation driven by two phenomena. The first is technological progress, with innovations developed in the information and communication sector in the 1990s, and more recently with the so-called digital revolution, the revolution that we are discussing here today. The second is that this process has taken place in the context of a progressive globalisation, a globalisation which basically is the result of the liberalisation of international trading goods, services and financial capital, which is being accompanied by strong growth in the cross-country movements of information, ideas and people. I'd like also to remind that we also have a third element of change, which is dramatic, the demographic change. In the last 30 years, the world population has increased by 50 percent and increase is for more than 90 percent in what we used to call the third world. Emerging economies, less developed economies, less developed economies and so on. And this has implications for not only the well-being of us, but for the well-being of that part of the world itself, which is basically the dominant part. And with that, we have observed the substantial reduction in absolute poverty. So we cannot really claim that globalisation has been all for the bad. As a matter of fact, it has helped billions of people to get out from poverty. But it has to be governed and this is what is lacking. These phenomena are having widespread profound effects right down to our everyday life. The introduction of the internet in the early 90s has permanently changed interpersonal communications and is now shaping how consumption and production take place. As a result, the digital economy is among the fastest growing sectors. In the European Union, it produces about 7 percent of total value added and participates, obviously, for the production of the rest. The integration of markets and international fragmentation of production have given rise to the so-called global value chains. And this has allowed costs to be cut, making the products accessible to a wider range of consumers. These transformations therefore promise great worker opportunities. But they also pose major challenges at both the economic and the social level. New technologies have already started to replace many manual and especially routine jobs, cutting costs while possibly creating temporary strains on employment. Data processing and information intensive tasks, in which human contributions once appear to be indispensable, are also increasingly being automated. Recent examples include the introduction of customized online language courses based on machine learning techniques. The internet bots, hired by a growing number of firms to handle the initial stages of customer services. The new possibilities opened up by the latest generation of virtual personal assistance. Basically, all these replaces what all of us used to do. The combination of globalization and technological progress has also provided all companies, not just multinationals, with a new potential pool of human capital from around the global. These may have contributed to generating additional tensions in advanced economies in our part of the world, which have seen a significant portion of their key industries relocate to other geographical regions. The burden of these changes is burdened unevenly across countries and social groups. In advanced economies, it has generated fears of a revival of the phenomenon that 90 years ago John Maynard Keynes called technological unemployment. The experience of countries such as the United States, Japan, Germany, which are today at the frontier of technological developments, and where unemployment rates are close to historical minimum levels, suggests that, as Keynes himself concluded in 1930, the technological unemployment may well only be a temporary adjustment phase. Policymakers, however, cannot ignore the costs of this transition. This may be a long-lasting transition, and every effort should be made to minimize the difficulties for those who are affected the most. Policymakers, however, cannot ignore the costs of this transition. Longer lasting implications may emerge for labor market participation, the quality of occupations, and wage inequality. Over the last few years, in fact, the structure of job opportunities has sharply polarized in many advanced countries, with expanding demand in both high-wage and low-wage expectations. It is not only rich versus poor. It is much more subtle and complex than that. Diminishing opportunities in middle-wage jobs, the poor where most jobs used to be contained. More specifically, employment has increased in many managerial, highly professional, technical roles on one hand, and on the other hand, in occupations such as low education, food service jobs, home aids, security services. Job opportunities have instead fallen in white-collar administrative and sales occupations, and in middle-scale blue-collar production, craft and repairs. This decline is detrimental to the earnings and the participation rates of the middle class, affecting, in particular, workers without a tertiary education. New technologies are also having a multifaceted impact on labor intensity, measured by the average number of hours worked per worker. We have to bear in mind that, in advanced countries, an important secular trend had been the decline in the average hours worked per worker, which moved in tandem with increases in productivity and wages. In recent decades, however, these trends seem to have changed. Labor intensity in particular has shown a bifurcation. On one hand, a substantial portion of global labor force now works very long hours, more than 48 hours per week. On the other hand, there has been a growth of often involuntary short-hour and part-time contracts, with the most famous example probably being the so-called mini-jobs in Germany. Although more research is needed to fully understand the causes of both phenomena, technology seems to have contributed to amplifying them. For those who work more, for example, business smartphones and other digital devices may have blurred the boundaries between work and private life, further increasing the number of hours worked. On the other hand, the so-called gig economy jobs, micro-tasks, crowd-working, manual services, are fueled time-related under-employment, a form of labor under-utilization, affecting those who would be willing to increase their working hours, but are unable to do so. Which policies should be designed and implemented to contain the economic and social costs due to higher automation and digitalization? My view is that the most important response should be to prioritize investment in education. Investment that must be inclusive because, as recently argued by Pope Francis, every change calls for an education process that involves everyone. In Italy, for example, the challenge of raising human capital is especially important. Data show that compared to other advanced countries, Italians spend less time in education. They learn less, and once they are in the workplace, participate in less professional training. As the labor market participation is also low, that brings to the share of young people who are referred as NET, not in education, employment, or training, to well above the European average. But public investment in education does not mean simply providing more, throwing more financial resources to schools and universities. They are needed, of course. But what is extremely important is quality spending. Quality spending is needed to improve the infrastructures, because we need schools that are not only endowed with up-to-date ICT tools, but are also sufficiently attractive and comfortable. Students should be able to enjoy and fully benefit from their time in attending them. In addition, a far-reaching reflection is needed on both what is taught in schools and how it is taught. You will recognize that I'm talking about schools and not universities, but I'm deeply convinced that you really have to start with schools. And then, obviously, research, university teaching is fundamental. But I'm afraid that we simply spend too little in the education of our children. With regard to the content of education, many observers place a greater emphasis on creative subjects. It is now widely recognized that the modern school curriculum should integrate science, technology, engineering, mathematics, known with the traditional acronym STEM, with the arts. It has been recognized. STEAM. As well as reading and writing. So, we are going backwards, recuperating what has been lost. STREAM. In fact, when most routine and data-driven tasks are automated, human contributions will be concentrated in those creative tasks aimed at developing new goods and services or at customizing or differentiating existing ones. Importance should also be given to financial education, including its digital assets. New technologies in the financial industry are introducing novel products. New services, providers. But the growing digitalization of financial decisions is not always accompanied by an increase in financial literacy levels, even among the younger population. For Italy, we have been conducting a number of surveys, as the OECD has done in the last few years. And one of these surveys is extremely clear. It has been conducted within the group of 20, using a methodology developed by the OECD, and shows a very low level of financial literacy with respect to the G20 average, especially among the least educated respondents, the elderly and the women. only about 30 percent of all the respondents showed barely sufficient financial knowledge, versus a still low 48 percent on average for the G20. The G20 includes, of course, South Africa, Indonesia, I mean countries which one would, Mexico, countries which Brazil, Argentina, so it is not limited to the very advanced countries. So we are much below the average of this large group of countries. Enhancing financial education, as well as familiarity with digital tools, is needed to raise awareness in the use of digital financial services and help protect customers from digital crimes, such as phishing schemes, account hacking and data theft. It is also worth remembering that new technologies are leading to a growing digital footprint of consumers and entrepreneurs. Not only financial service providers, but also online retailers, social network platforms, and other internet service providers gather vast amount of personal information. These data are often used as input for algorithms that profile customers and can draw behavioral predictions. Profiling permits the personalization of services. It might have somehow positive effects, but it can also lead to unfair discrimination. In the United States, for example, some cases have emerged of discrimination based on ethnicity and gender. In the broader context of data protection legislation, the European Union has built safeguards against algorithmic bias, which include the right to refuse to be, and I quote, subject to a decision based solely on automated processing, including profiling. In the financial sector, this norm applies to decisions on credit and insurance. Financial education would further help to make people aware of the implication of their digital activity, of the use made of their data and of their rights. An appropriate education would also contribute to limiting the digital divide, that is the lack of opportunities available to people without access to the internet. As the diffusion of digital devices is becoming more global and their complexity grows, access to opportunities will depend not simply on having the information and communication tools, but also on having the skills needed to use them. Expanding the content of education alone is, however, not sufficient. As Tullio De Mauro, a great Italian professor of linguistics, former minister of education, pointed out some years ago, In many countries, school life has been governed by three principles. First, silent listening in class to the lesson of the teacher who explains, between the chair and the blackboard, what is already written in the book. Second, studying the book at home with exercises. Third, back to class with questions to verify the studying of the book. This traditional method where knowledge is passively imparted from teachers to students is no longer enough. History, arts, literature, languages, mathematics, science, economics will have to be taught in a dynamic context, with sufficient room to stimulate creativity, intellectual curiosity, discussion and negotiation with other students. The ability to cooperate, enhance respect for others and foster ethical behavior. Digitalization should not become a prison. It is necessary to learn about it, but we also have to be able to debate its merits and be prepared for the tools that will be used in the future. As Malala Yousafzai, the Pakistani activist for the right to education and the youngest ever Nobel Prize laureate, reminded us, in 2013, one child, one teacher, one book, one pen can change the world. In the quest for a better world today, we could also add new digital devices, provided they are used properly to this list. Improving the content of education and the teaching methodologies is needed to prepare our students, not only for what we think is going to matter in the workplace tomorrow, but also for what we do not yet know. We know that today's workers are required to develop and continuously refine a large arsenal of both cognitive and non-cognitive skills. They need to be able to search for specific information in the ever-growing ocean that is the internet, recognize the quality of this information, process it critically. To adapt to the modern model of business organization, it is widely recognized that there is a great need to develop soft skills, such as problem-solving attitudes, teamwork, effective communication, and negotiation with others. However, adequate investment in education is also needed to face the uncertainty that surrounds the jobs and the skills which will matter in the future. We have to be humble. We do not know enough. But one thing we know, that we have to be prepared to what we do not know. That is, we need a particular kind of education, one that is really missing today. Basically, the current pace of technological change requires workers to learn to learn and to continuously update their skills. Understanding the importance of investing in culture and knowledge, not only throughout our school careers, but also spanning our entire working life, and I would add beyond also our working life. That is, by now we can live for long periods and we have to live well in this whole period and negotiate with others. This means that we have to be educated to do so. Think about all the old people today that have to go to the ATM and they don't know how to use it, or have to send somehow across the wire money to pay for their basic expenses and they have to learn how to use the internet. So, it is a continuous process. The challenge is even more important in Europe due to its demographic trends. Basically, we know that in the next 25 years or so, the European population will fall for those who currently are in working age, 20 to 65, by about 30 million people. This compares to the billions that will be somehow ready to work and go around coming from the rest of the world. We discuss very much about immigration, immigration. I mean, we discuss about thousands, about hundreds of thousands. We have to discuss about millions, hundreds of millions, billions. These are the changes and we do not do enough to discuss these challenges. A key contribution to somehow improve our ability to provide goods and services, many times goods and services that are not yet basic, but are going to become basic goods and services must come from human capital. As pointed out by a famous economist, Edmund Phelps, who is a Nobel laureate in economics about 15 years ago, and who has analyzed the causes of the slowdown in productivity, which has been observed in advanced economies in recent decades, not only in Italy or in Europe, reviving the dynamism of our economy requires, according to him, rediscovering behavioural attitudes that supported economic growth in the past. And they are the desire to create new things, the propensity to explore, the drive to seek better jobs, to face new challenges and be successful. Education is the key to reactivating these attitudes. Obviously, I totally understand that education is just a word and vocation might be a nice and important issue to reflect upon, as it has been observed a few hours ago, but I still think that not all have that vocation, but they have to be educated to find one. And this is educated on how to live in this world that changes so quickly and so dramatically. And economics is not enough for that. In fact, I would conclude that as an economist and as a central banker, in this discussion I have focused on the role of education and human capital to enhance economic development, and especially to respond to the changes that are taking place in the financial system, and we need financial education, and in the global economy. But it would clearly be an understatement to think that investing in education matters only for its positive impact on economic growth or on personal finances. As Pope Francis put it in September 2018, without the right to education, there is no real freedom, which allows every person to be the protagonist of their own destiny. A better education is the key to a better world. It can contribute in a profound way to supporting our sense of civic duty, including increasing respect for others, strengthening compliance with the rule of law, improving trust and cooperation, enhancing solidarity. Well, I'm repeating things that I've said 10 years ago, and every time I meet the new Prime Minister and so on, we talk about how important it is really to go in-depth in these issues. Unfortunately, there is some short-sightedness on the part of the political system. And we have to work hard to try to foster the importance of investing in changes that probably will provide fruits and benefits after the life of most politicians. But they will be rewarded sometimes, somewhere. And so I would like to conclude basically reminding that it is essential to foster values that have an intrinsic worth, regardless of their effects on the economy, and which are key for the social cohesion and the well-being of citizens, values that today are most needed. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And if I can say we now go on with the round table, right? Okay. Sorry. Okay. 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 Very sorry about this. I was not supposed to coordinate this. I'm not prepared. So, Sister Alford, Vice Rector of the Pontificial University of St. Thomas, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. I have the opposite problem to Monsignor Galantino, who told us he couldn't speak English because it would be a disaster. On Tuesday, I was at this lovely meeting at Lopiano, where everybody's preparing for this huge meeting in Assisi, the economy of Francesco. And there were all these amazingly active and wonderful young people preparing. And there was me, you know. And everybody there was Italian, and they're all full of life. But we all have to speak English because we've got this streaming going on with Australia and Poland and all these other countries. So, everybody's talking in English. And so, all these young people had to get up and say what they had to say. And I had to sort of speak towards the end. And I just had to say before I spoke, you know, I'm really sorry that I can't speak English with this beautiful Italian accent that everybody else has had this afternoon. It's so pedestrian, my English in comparison. Anyhow, so, building a common future through education and research. So, I'm very glad to be here, very glad to be with the Foundation, also to be at the Catholic University. I mean, I came to Rome to work in a pontifical university. That was what I was sent to do. And I'm very happy there. And it's amazing what we can do there. But I'm very aware of the limitations we have as well. One of our former rectors said to me one time, we're really a military college. And I think that's not a bad analogy, really. We're sending out the troops, you know. And a place like the Catholic University in Milan is able to be a sort of other side of our soul. You know, we're very happy that there's a place like the Catholic University of Milan. Also the Lumsa as well, you know. But this place has a sort of cachet that even the Lumsa doesn't have. Anyhow, so my title is Building a Common Future Through Education and Research. We've got two parts of this title, each with two parts. Building a Common Future. Okay, so we start off with this image of building something. And a Common Future. So, the future is common. Hopefully, maybe the building as well. And then the second half, Through Education and Research. Now, this title which was given to me, someone like me who has an engineering background should be perfect. You know, this is exactly what we do. We all want, this is our objective. Common Future. And this is the way we're going to get there. Education and research. So, we have our objective and we have our means for getting there. The only thing that's missing in the title, but of course you can't put everything in the title, is how do we know we succeeded? We've got this. So, what's our indicators? You know, but it's a pretty good title for people who have an engineering background. But I want to say that I think a more effective way of thinking about this problem is that education and research are the common future. Education and research are the common future. It's not that we've got to build a common future through education and research. But that these very things are the common future. They're not just a means for getting there. They are the end. Well, or at least they're also the end. I would also like to say that the work that goes on in business, the work of engineers and that, is also the end. But we have to see it in a different way. It's not just a means towards an end. And so what I want to say is that, I think the most important thing I can say today, because lots of other important things have been said, is that we need to adopt a mindset. Mindset, I want to use that word mindset, that allows us to see, to see, vedere, to see our work, our teaching, our research already as the way that can produce a different common future. And if we can do that, if we can do that, if we can see this already, then we can hope that such a future can emerge. I'm saying this remembering, you know, we're in a Catholic university, the foundation behind this meeting is Catholic Foundation. We can remember how our Lord was always going on about people not seeing. You know, he was healing, giving sight to the blind, and he was complaining about the blind guides that the people had. So this thing about being able to see something, see something which maybe isn't so obvious on the surface, but which is actually already there, it's already there, I think is quite important for us. We know that the future in itself, talk about building a common future, the future in itself isn't predictable. Yes, we have these very important people called futurologists, we have people talking about the big trends of the future. You know, I have a friend, she's a former big accountant with KPMG, now she runs her own consultancy, which means that she goes to these board meetings and talks about the mega trends of the next 20 or 50 or 100 years. You know, and she tells me, you know, I go to these meetings, I say all these amazing things to all these very important people. And at the end of it, the outcome is, well, thank you very much. You know? And that's the end of it. You know? So we can know these things, we know there are these trends going on, but we haven't a clue what to do about them. You know? What do we do? So it's useful to know about them. It's not a waste of time, but we can't really see what that means the future is going to be. Perhaps the nearest we can get to thinking about the future is through our imagination, through storytelling, through fiction, film, literature, these kinds of things. Not a surprise that a lot of modern film production is about that. I just recently read in Financial Times that the sector of filmmaking now that is getting the biggest investment from Netflix, from the major film studios, and all this kind of thing is sci-fi and fantasy. And I asked my nephew, who's just finished his first degree in English, I said, why is that happening? He said, oh, it's obvious, he said, because that's where you can talk about religion. It's the only place where you can talk about religion in film now. And he thought I was a bit stupid to ask him the question, but you know, all nephews think their aunties are stupid. But, so films like Matrix, I don't know if you know these films, I know them a little bit. Matrix, Blade Runner, these series now, Netflix, like Westworld, where you have the robots and the people interacting with each other and you hardly can tell the difference between them. They all imagine a future for us in a way that we can't do using the trends and that kind of thing. But they often seem to be very pessimistic, very pessimistic futures. You know, they emphasize what will happen as a result of our inability to relate to each other. Or what's going to happen to us as a result of our conflicts destroying our world. We can't change the sort of road that we're taking, which is going towards doom if we don't change it. Anyway, I think rather than seeing these sorts of projections of the future, useful as they are, as a real starting point for us, much more interesting and more productive would be to see something like the medieval monasteries, or the redacciones in the new world or the social enterprises of today as ways of already seeing, of acting and being a source of a common future that is generative and life-giving, rather than full of the destruction and dysfunction that we find in the Matrix or other futuristic films. So, anyway, with that little introduction, I'd like to make three points, and not to go over 15 minutes if possible, because I'm, you know, one of those awful Anglo-Saxons from the North and try to keep our time. So, what is the mindset that we need? Just to say one thing about that, because that's, of course, a big issue. Number two is promoting the mindset. These things are like little dolls, these little Russian dolls. You know, what the core idea is. What's the key thing about the mindset we need? Then the next thing is, how do we promote the mindset? And so, that's talking about the university today, and especially the Catholic university. And then the third thing is just Christianity and Catholicism in the world, its role in the world today. So, that's the biggest part of us. So, those three points building out from the core one, which is the one about the mindset. Now, we could start in a lot of different ways. I think, instead of talking about mindset in the abstract, the most useful way, especially because we're here a group of sort of business people and academics together, is to start from what is dominant in our current mindset, some of which was discussed in the closed meeting, which, unfortunately, I couldn't participate in. We had a health emergency in our university, so I could only come for this afternoon, which I'm sorry about that. But, so, what is the dominant current mindset that we have, and how could we modify it so that we can move more towards, or at least create the presupposition for the situation that Laudato Si proposes to us, the common future that Laudato Si proposes to us? Well, I think if we want to say one thing that really characterizes the current dominant view in academy and in business world, it's the person as an individual. You know, individualism is still a very, very powerful idea. All our politics is about adjudicating conflicting interests between us, and about stopping us from using more violent means than that to get our way. You know, economics is about market transactions between otherwise disconnected individuals, and so on and so on. Not all subjects. Maybe law has a little bit more, because of its medieval foundations, a little bit more independent from that. But all sciences that really get their identity after 1750, so most of the modern social sciences, have really absorbed this individualism in a very, very strong way. It's a very, very powerful idea still in our societies. So we need then, I think, to find a mindset which builds on the benefits of individualism. We don't just want to demonize it. You know, if we think about parts of the world that haven't been through the sort of enlightenment process that we've been through in the West, let's think about the Middle East, or think about India, perhaps, and think about the problems that they have. They have the sort of traditional cultures that we also had in the West, before this process. And what do they suffer from? Well, things like nepotism, things like corruption, a total lack of meritocracy. People are in positions because they're related to certain other people, and not because they're any good, really, at those jobs, that kind of thing. So, on the other way around, we have the benefit from this experience of individualism, of, of course, an emphasis on human freedom, which is, you know, a bit ambiguous, but basically positive, and an emphasis on meritocracy and on just procedure. You know, everybody being treated fairly, which is a pretty important thing that we want to welcome from a Christian point of view, I think, and ultimately does come out of Christianity, you could say. But, apart from this, you know, these good things that we can recognize in individualism, we can also see it's a very, very profound problem, which is this isolation, the situation of everyone being an isolated individual that is carrying us towards. You may not know, but in Britain now, we have a minister for loneliness. Because the healthcare issues, the educational issues, the breakdown of the family, that everybody realizes these are fundamental things which are costing a lot to our society. Because when he starts to find the financial aspect of it, everybody starts to treat it seriously. You know, it has big healthcare costs, big social care costs, and, and so on. So, we have this huge lack on the side of how to, how do we envisage our connectedness, our need to relate to other people. Individualism gives us no capacity intellectually to do that. You know, the only way you can think about somebody else's good within individualism is, is to be altruistic, as the enlightened philosopher would say. What does that mean? You put your own objectives on one side, and you think about the other person's. Because there's no way for you to have a relationship in which you can share your objectives. And, of course, if you think about altruism in that sense, especially a business, but most of us, for most of our times, we cannot be, most of our lives, we cannot be altruistic. We cannot be putting other people's goals always before our own. We have to think about ourselves. So, it's not a very effective way of trying to think about connectedness. So, how, what can we do about this? Well, you know, I've been thinking about this for a long time, and working a lot with people in business who I think are very, very open to this idea. I think it's the part of the social system today that is the most open to trying to think about new ideas in this area. And I think the most illuminating way forward that we've found, which works a lot with a lot of these business people, I'm working with a group called Blueprint for Better Business in the UK, is to take the personalism of Jacques Maritain and use this as the starting point. In Maritain's understanding of the human being, the understanding of the human being, there's a distinction between, as well as a unity of, two dimensions. One dimension is the individual, we'll come back to say a bit more about that, allowing us to keep on board what we have from the enlightenment traditions which we're inheriting. and the other is personal or relational. Now, if we think about it, we are used to thinking about the human person in two dimensions. You know, we talk about body and soul. I mean, not just Christians, people in general. Body and soul, matter and spirit. You know, we recognize there's more than one dimension to human life. But the thing that's really crucial about the personalism is that it takes the non-material dimension, the non-individuated dimension and says it's intrinsically relational. This is very, very important for this sort of step forward in the mindset. What does intrinsically relational mean? It means that we relate to others on our spiritual level as part of who we are. You know, that other human beings are not just useful to me in gaining what I need as an individual, my survival needs or my social hierarchy needs or these kinds of things. But they are part of who I am. I need them to be who I am. So, we can recognize that we have these two dimensions at the same time which seem a bit contradictory to each other but actually are there. On the one side, we have this individuated nature which is we have bodies. You know, we're fixed in time and space. We need food. We need clothing. We also need to know where we are in the hierarchies as well. Where we are in the social groups. That kind of thing. So, things like league tables and that are also parts of this individual identity. If I'm at the top of the level, somebody else isn't. I'm pushing somebody else out, you know. So, these are all to do with individual goals and individual objectives. And we need to take that seriously. And the fact that economics and politics up to now has only taken that seriously is a sort of reductionist view. But it works up to a point. It's not completely wrong. But it's not good enough. It's not good enough for what we need now. But, so for personalism, to recognize our individuated nature. The fact that we have individual objectives which mean I relate to somebody else insofar as they can give me what I need. That's the contractual model of relating. You know, Utimio has a house. I want a house. I have money. He wants money. We have a contract. He gets the money. I get the house. Apart from that, I'm not interested in Utimio. He's helped me get what I want. I'm sorry about that, Utimio. It's not true. But anyway. So, but that works up to a point. It's not wrong. It's just very, very reductionist and limited. And it's misleading. Because actually a lot more is going on in our relationship. So, Maritime would say, okay, that's happening. But it's only half the story. It might not even be half. It's not the full story, anyway. Because equally important in our relating to others is this personal side. This spiritual, non-material side. Which is always part of our life. This is the difficult thing for us. We are individual and relational at the same time in every circumstance of our life. So, we're not sort of intrinsically relational when we're in church or when we're with our families or when we're with the people that we really care about. We're that as well when we're at the business on the shop floor and in the boardroom. And similarly, when we're in families, we're also trying to get individual needs out of our relationships with others. And in church. Let's not get on that subject. Anyway. So, we have both of these kinds of ways of relating to other people. I need things, but also I can only find my good in relation with others. That is going on at the same time. Now, if you can see that, we can explain a lot of the research that we find, talking about education research, in modern social disciplines. For instance, the most classic example is the happiness research, which we can't really explain unless we can understand that relationships are intrinsically important to human beings. You know, I was just at a meeting a few weeks ago with John Helliwell, who's the key person behind all the world happiness reports. And he said, look, if we have to say one thing that's come out of all these reports over all the years is that relationships are the most important thing for happiness. If you don't take anything else away from those reports, that's the thing to take away. You know, so this is just, we're just trying to come up with a theory now which just is relating to these empirical results that we're getting. We're not trying to say, look, you should look at this like this because it's the Christian way to do it, even if it is the Christian way to do it. But it's really coming, hitting us, both in terms of the problems we have to deal with now, all of which are social and systemic, and in terms of the results that we're getting from empirical research. So, that's our first thing. The key thing about the mindset, and there's a lot of other things to say, is we need to recover a relational view of the human person. Without saying the individual is to be gone, you know, it's bad. No, it's okay. But it's just not good enough. It's not big enough. It's too limited a view of the human person. We need to add this other dimension, recognize this other dimension, relational dimension. Okay, that's point number one. Point number two, the university as the means of promoting this different mindset. Well, the university as an institution obviously has roots that go way back in time, way before the rise of individualism as we know it today. But it's still very influenced by modern individualism. And necessarily as a social endeavor, the university is social or isn't anything. It does not find itself in a very happy situation in a world dominated by individualism. It's become more and more complex to understand what a university is in this environment. I mean, certainly in UK, universities have become more and more and more like businesses. Because they don't really know how else to be anything else, really. And, okay, it's not completely wrong. It's not completely bad. But it's got a lot of drawbacks to it, you know. Let's think about the very word university. It comes from those Latin words, univertere. The idea of everything converging on something. Everything vertendo towards something, the uni. The trouble is we don't know what the uni is now. We can do the vertere bit, but what's the uni that's holding everything together? Within the world in which the universities were born, it was the kind of Christian world view. You know, we could say theology. When we had very strong nation states, the national identity took the place of it. You know, the universities could run their disciplines and they could be diverse. And they were all working towards promoting a certain culture, a certain identity. But who in a university today thinks they're promoting a national identity or a national culture? You know, I mean, not many people in university think that now. And furthermore, national identity can't even hold nations themselves together anymore. As this terrible Brexit saga that's been going on, you know, gradually grinding to its final conclusion today. I'm just about to lose my European citizenship at midnight tonight. Great sorrow. You know, it can't even hold a nation like Britain together anymore. One of the most classic nationalistic places on Earth, you know. So in this kind of vacuum, I would say the Catholic universities, with a very open sort of Catholic identity, could start to play a very significant role. You know, a lot of thinking has been done about what it means to be a Catholic university since John Paul II's, at least since John Paul II's apostolic exhortation, Ex Cordia Ecclesiae. And now that's complemented a bit by the thinking of Pope Francis in Veritatis Gaudium, which refers to the ecclesiastical universities. Where I come from, people want to make a big distinction between ecclesiastical universities and Catholic universities, even though I don't think it's so very significant. But I didn't say that, okay, if you talk to anybody from Pontianoc University. Now, I think these debates about what the identity of a Catholic university is, at least in the Anglo-Saxon world, have focused a lot on how do we pass on a Christian faith through all our disciplines. And there's been a big argument about the mandatum for theologians. You know, how close should theologians be to the magisterium of the church or not? A huge amount of energy has been spent on that. But I think in the light of what we're saying here today, an equally important part of this Catholic identity, if we can put it like that, is handing on this sort of personalist mindset, this new way of trying to draw together the disciplines to create a platform in which they can talk to each other and work together to resolve the problems that we face today, all of which are social and systemic. We cannot resolve these problems with a purely individualistic mindset. And we also need to get the disciplines to work together. You know, I don't know if any of you have had this experience, certainly I have this experience, that you can't get people to talk across disciplines at all. They talk to each other in their disciplines. And in fact, they often really dislike people who try to work between the disciplines, who are sort of traitors to their own disciplines. It's a little bit less bad now. And we do talk about mode one research and mode two research in the university sector. So one is within the discipline, one is across the disciplines. But there's still very strong kind of loyalty to your discipline. And I think it's not a surprise that the Pope who wrote Laudato Si is the same Pope who, in writing to ecclesiastical universities in Veritatis Gaudium, strongly pushes us to develop a transdisciplinary approach. is to get this world view again, this mindset on which we can build a platform, this univertere in which we can get a platform to confront the problems that we have. I think we can do it. We can do it, but, you know, step by step. Okay, and the Catholic universities will have a big role in that. Last point, role of the Catholic Church in the world as a whole. Too long, I talked for too long. Anyway, I try to finish now. Christianity, as you all know, is the biggest religious group in the world. And Catholicism is half of that group. We're talking about two billion people in the world today. Recent Pew research study shows that the proportion of religious believers in the world, which is already 84%, is set to increase by 2050. And Christianity will remain the biggest religion, although Islam will become much bigger and will take the place of other religious groups. But Christianity will still, on current trends, it will only be passed by Islam 2075. The Catholic Church has the biggest single education system in the world, with over 1,800, or about 1,800 higher education institutions, and about 60 million students. It's also a major player in health care. You know, 20% of AIDS care worldwide is provided by the Catholic Church. In promotion of civic rights, there wouldn't be an uprising in Hong Kong at the moment, except for what the Catholic Church is doing in Hong Kong, that's for sure. It's crucial in the peace building in many conflict areas. There was a very important report produced by OSCE just about this time last year on religions and peace building, showing very well how religions are contributing to overcoming conflicts. It's also waking up now, the Church, to socially responsible investing. We have here two authors of a new guide for socially responsible investing for Catholic investors. It's getting a greater role for women in the Church too. And let's say, although we can argue about this, it's probably one of the most advanced of the major religious groups in the world today, Christianity on this point. We've got a lot to do, but you know, things are moving, things are changing. And it's also waking up a lot to its ecological responsibilities. So the Catholic Church is a really, really major player. And the Christian Church is, you know, as a whole. But if we're really going to be able to make that voice felt, that just presence felt, we need to do one thing which we don't do at all, really, right now, which also Monsignor Galantino started to talk about. And that is to gather data. We are in a data-driven world today. We should be gathering data about what the Church is doing in a much more systematic way. We need data to guide our activity, to see how we're improving what we're doing, but we also need data to tell our story to other people. You know, in the English-speaking world now, most people, if they hear the word Catholic Church, they think, pedophilia, financial scandals, and clericalism. Because that's mostly what they hear about the Catholic Church, in the media. Now, if we had proper data, and we had a proper reporting system, that we could use to get that data out into the... You know, they'd be thinking, biggest provider of education in the world, when they hear the word Catholic. They'd be thinking, major contributor to healthcare in the world. They'd be thinking, supporter of civil rights and builder of peace in conflict zones around the world. But they don't know that. You know, Pope Francis has done a lot to change the image of the Catholic Church on that front. I mean, a lot of people say to me, don't you think the Catholic Pope Francis revolutionized the Catholic Church? And I say, no. All he's doing is making visible to you a face of the Catholic Church that was there before, but you couldn't see, you know. He's made it visible just in his own person, his own self. Now, that's not good enough for us. We should be making it visible through the data that we gather, the reporting that we get out. So, just so that people know about what the Church is doing. I mean, it's not also good for us. It's also about saving lives. You know, if we told a story better about how we take care of AIDS patients, that all the funds that are available to that would be channeled better towards the groups that are in the Church, which are providing that care, for instance. Okay, I should finish. So, I think if we come back to our initial title, Building a Common Future Through Education and Research, with the data that we could collect, we will be able to add, at last, that missing part of our title, our indicators, and be able to know whether we have made any real progress towards achieving them. Thank you very much. Now, if I'm not wrong, it's time for the round table, right? So, Professor Giovanni Marseguerra. Right? I think that's all good. That's all good. Oh, my God. I think that's all good. I think that's all right. Oh, my God. Grazie a tutti. 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 ,... ... 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 in un tempo, e anche in la compagnia di AM, dove erano studenti a scuola. Poi abbiamo deciso di dare che la tecnologia e l'educazione sarà venuta quando cerchiamo la scuola dell'inigualità. Poi abbiamo iniziato a trainare le persone nelle prigioni. Quindi abbiamo presenza in diverse prigioni qui in Italia dove abbiamo dato un secondo chance a persone per l'educazione. Il risultato è che abbiamo ora più di 1.000 studenti in prigioni. Il risultato non è perché delle compagnie, è perché di loro. È incredibile. Diamo un piccolo pezzo di futuro a loro vita. Il secondo progetto è la comunità Sant'Egidio. Oltre, le persone sono importanti nel mondo in cui viviamo. E, ovviamente, non necessitano di un'educazione sui tecnologi. che hanno bisogno di una casa. Ma quando hanno una casa e quando investi tempo in trainare le persone, yesterday, una di miei colleghi mi ha detto, che è stato felice, che è stato felice. She ha detto, che ci sono 35 studenti e la maggior parte di loro erano in casa. Non so come con questo progetto. che magari non succederà. Ma solo la bellezza di avere 35 persone in la comunità Sant'Egidio sitte da, sentire l'evoluzione della tecnologia, ho credo che sia un grande esempio di cose, di cose, che è il momento di agire. E la tecnologia deve comportare come questo, deve considerare una platforma per aiutare e per aiutare a ridurre la scena dell'evoluzione in mio paese ma anche nel mondo. Quindi, sono sicuramente comitato che fare questo necessitare un livello o un livello di liderazgo nella nostra economia. Grazie. Una very, very final. La prossima. Una very short answer di voi. A recent study conducted in 15 countries worldwide found that globally young people are more optimistic about the future than older generations. Despite facing much higher unemployment rates, more instability, lower wage than their predecessors, today's youth are entering adulthood confident that they can build a better future for themselves and for those that follow. the question is do you share this optimism? Yeah, obviously there is a contradiction but I understand their optimism and first of all because this generation is longing for connecting with other people and technology and technology in a sense is not sufficient but also offers an opportunity to connect not only to connect on the web but also to meet concretely because you can organize because you can organize and this is a reason certainly for hope for themselves. In fact this young generation experiences new forms of social life and in some time partly possible because of digital connection but also relying on alterity and togetherness this generation is longing for some experience of connection with very very different people the poor those on the margins and those from different countries and different cultures and the second reason for hope and for their hope which I agree is sometimes astonishing to see that obviously the situation is a crisis but there is hope there is hope the second reason is that they really train for open discourse and new means for democratic life I was amazed maybe you followed that President Macron in France launched a grand debate grand debate in my university young people organized the grand debate themselves I once entered it was on tax reform I knew very little about these questions they had convened a professor to be the witness of what of their exchange and debate he did not intervene sometimes he would be asked a question is that correct but I was amazed of the energy they put into organizing the debate and the way they were really successful even the the professor said well congratulations so if I finish very quickly I think there is a longing for intergenerational relations in this generation they are very open compared to my generation in 1970s we were very critical of the older generation they know today that there are many things they can do we cannot but they also perceive that there is some kind of human experience that is in the older generation and that they really need so the challenge is before us are we going to respond this openness to intergenerational dialogue if yes there will be dialogue and we can construct the society together if not they will do by themselves and for me it's really as a crossroads so anywhere universities or companies can respond to the desire for meaningful transformation is in a good direction but if we refuse to do so it can be a very severe split and in a period where populist leaders do as if there was no differences no pluralism in our societies if we do not produce positive experiences of pluralism in terms of capacity of discussing of arguing then we prepare the spreading of populist governments thank you thank you due to time constraints I'll just set evit to whatever the rector said agree with you so I can put something on the table something else yes young people tend to be more optimistic and probably have a better or deeper developed conscience especially when it comes to ecological conscience as I said taking it as ecological responsibility as a value in this respect let me just said that and from more political science scientist point of view it's very interesting the service that Pope Francis has done with his language the way he writes his documents and presents his documents I could even say that he has somehow democratized Vatican language and put it there for everybody to understand maybe you don't agree maybe you do but you cannot say you cannot understand just a quick anecdote four wise when I served as ambassador to the holy sea I remember listening closely to Pope Benedict's homilies and took me a couple of days to find to understand everything and not a teologist myself political scientist however when Pope Francis speaks you understand right away you can agree or not but right away you get the idea very easily sometimes he speaks even with what methodologies call soundbites very catchy with strong ideas and I believe that in terms of inter generational relationships this is fantastic because you can work on this Vatican document very deep and doesn't matter age or even the background you come from you can do that having said that maybe because of rapid changes during this era I do believe and I agree with the employers in Costa Rica that one of the abilities skills that maybe the new generation lacks at least what we've seen is resilience getting used to getting things very fast or the ability to transform the joy and happiness that comes during good times or moments of success to patience when hard times arrive so I do believe that we have the duty the responsibility of training or educating a more resilient optimistic generation with the vocation to work for the common good and we have to do it as Pope Francis says as a big act of love that is what education is all about I I like I like very much the statement around trust is the ultimate currency and if I look at the generation the Zed and the millennials I believe the difference if I may versus my generation is probably the trust so their capability to trust others that give me confidence that there will be they will create a better world than the ones that I contributed they are much more aware of the future of our planet they are much they are more generous and this is the reason why my answer to your question is yes so thank you thank you very much to our panelists for this very rich round table and above all for being very short thank you again and I leave the floor to professor Quadrio Curzio for his final remarks thank you thank you thank you thank you very much thank you thank you thank you thank you thank you thank you E un ringraziamento anche a chi ha avuto la pazienza di aspettare queste mie brevissime conclusioni. Brevissime perché due giorni di dibattito come questi non consentono delle riflessioni conclusive, almeno non consentono da parte mia delle riflessioni conclusive, e brevissime perché la tarda ora induce tutti alla meditazione. Siamo vicine alle tarde ore in cui la meditazione è un momento importante della giornata. Siccome noi siamo nella Arcidiocesi Ambrosiana, nella quale l'Università Cattolica è stata fondata, desidero iniziare ricordando due grandi figure di arcivescovi ambrosiani che hanno segnato non solo il cattolicesimo e il cristianesimo, ma hanno anche segnato la significatività del ruolo dei laici, quello che si potrebbe chiamare il cristianesimo civile, non solo nella diocesi ambrosiana, ma in Italia e credo anche nel mondo. Si tratta dell'arcivescovo, io amo chiamarlo così, dell'arcivescovo Giovanni Battista Montini, che tale fu dal 54 al 63, divenne poi Papa Paolo VI, e dell'arcivescovo Carlo Maria Martini, che fu tale dal 1980 al 2002. Quest'ultimo non divenne Papa, ma fu a lungo Presidente della Conferenza Episcopale Europea, fatto non secondario anche nella storia della costruzione europea. Perché ho citato queste due personalità? Le ho citate perché, a mio avviso, sono state, la prima soprattutto, ma anche la seconda, gli antesignani di un principio chiaramente enunciato per la prima volta così chiaramente, anche se sempre presente nella dottrina sociale della Chiesa, è enunciato, come dicevo prima, nel 1991, ai cento anni della Prerum Novarum, da parte di Giovanni Paolo II, il quale afferma la Chiesa non ha modelli da proporre. I modelli reali e veramente efficaci possono solo nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, politici e culturali, che si intrecciano tra di loro. A tale impegno la Chiesa offre, come indispensabile orientamento ideale, la propria dottrina sociale. E con questo principio, che a mio avviso si trova implicito in molta parte della dottrina sociale, ma si trova esplicito sia nell'Arcivescovo Montini che nel Cardinale Martini e ovviamente nella Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, dovrebbe sempre essere a ciascuno di noi presente. E ciascuno di noi, credo, dovrebbe cercare di metterlo in pratica portando, non dico a testimonianza, ma quantomeno a riflessione sulla propria vita se e come ha visto attuato nel campo della propria attività professionale questo principio. Ebbene, io credo che i principi etici, nella misura in cui si segua questo paradigma della Centesimus Annus, debbano sempre poi portare alla configurazione di modelli o di paradigmi che si materializzano, che si concretizzano in tre componenti essenziali di ogni buona convivenza. Le istituzioni, la società e l'economia. Io metto la società in mezzo, non per ragioni di puro caso. La metto in mezzo perché la società è l'elemento portante su cui le istituzioni e l'economia possono reggersi. E parlo di economia e non di mercato perché il mercato è una delle componenti dell'economia ma non esaurisce l'economia. Personalmente io, sempre utilizzando nei limiti delle mie capacità interpretative e applicative la dottrina sociale della Chiesa, ho considerato due paradigmi dai quali ho cercato di non staccarmi nella mia attività di docente e forse anche in qualche altra attività nel contesto accademico. Un paradigma è di tipo orientativo e guarda sempre alla solidarietà e alla sussidiarietà per lo sviluppo ma precisa che deve trattarsi e questa è una mia personalissima interpretazione di una solidarietà creativa di una sussidiarietà in varie forme e di uno sviluppo ovviamente nel limite del possibile integrale della persona nelle comunità. Nella parte appunto, come dicevo prima, applicativa istituzioni, società ed economia. Siccome in queste giornate mi sembra di non aver sentito una particolare accentuazione delle istituzioni ed era anche, credo, abbastanza previsto dagli organizzatori, vorrei soffermarmi un momento proprio sulle istituzioni. Io credo che la Chiesa Cattolica i Papi nel loro Magistero abbiano sempre privilegiato non solo l'universalismo ma anche il multilateralismo. Non credo che ci sia stato un momento quantomeno nella storia recente del Papato la rinuncia al principio del multilateralismo e la rinuncia al principio dell'et-et del dialogo piuttosto che l'out-out delle condizioni prendere o lasciare. E in questo contesto una istituzione apparentemente non molto popolare e talvolta addirittura definita come istituzione incapace di conseguire i propri fini ha trovato un apprezzamento assai significativo. Si tratta delle Nazioni Unite che nel 1965 quando Paolo VI parlò all'Assemblea Generale fu descritta da Paolo VI cito solamente un passo di questo bellissimo discorso all'Assemblea Generale dell'ottobre del 65 e cito solo un passo chiarissimo per esprimere l'apprezzamento del Papa Paolo VI alle Nazioni Unite. Esse riflettono in qualche modo nel campo temporale che la nostra Chiesa cattolica vuole essere nel campo spirituale unica ed universale. Non vi è nulla di superiore sul piano naturale nella costruzione ideologica della umanità. la vostra vocazione cioè quella delle Nazioni Unite è quella di affratellare non solo alcuni ma tutti i popoli. Quindi Paolo VI chiarisce in modo inequivocabile la funzione concreta delle Nazioni Unite e in qualche modo manifesta la propria manleva all'iniziativa stessa. Un ragionamento analogo si può fare per l'Unione Europea. Tutti noi sappiamo che l'Unione Europea è nata per riportare la pace tra i popoli questa essendo stata la prima istanza per la trattatistica internazionale su cui l'Unione Europea è nata ma poi l'Unione Europea è via via evoluta in forme sempre più complesse sempre più complete a mio avviso assorbendo molto quantomeno come substrato culturale quello che viene denominato soprattutto dai non credenti ma anche da molti credenti il cristianesimo civile cristianesimo civile cioè l'incorporazione nel civile dei principi del cristianesimo più o meno conosciuti ma spesso praticati anche se non sempre conosciuti nel contesto civile e devo dire che sotto questo profilo il Cardinale Martini che adesso non sto a riprendere testualmente ha scritto delle pagine memorabili durante il periodo in cui egli era Presidente della Conferenza Episcopale Europea ma anche successivamente un punto fu sempre chiaro nel pensiero di Martini e cioè che la dimensione economica e secolaristica era molto importante ma che per l'edificazione dell'Europa era assolutamente necessario rispettare le verità sull'uomo e tenere sempre conto della dimensione morale dello sviluppo due osservazioni più vicine alla vostra tematica di questi giorni le Nazioni Unite hanno tradotto nella dichiarazione universale dei diritti umani una serie di principi universali che hanno a mio avviso contribuito se non certo a risolvere tutte le diatribe o tutte le conflittualità tra popoli hanno quantomeno contribuito a dare un orientamento di sviluppo umano e di pace all'umanità stessa e nell'ambito della carta dei diritti fondamentali scusate dei principi della dichiarazione universale dei diritti umani ci sono alcuni articoli che riguardano ma secondo me non è questo che va sottolineato talvolta ciò che è vero non viene creduto praticato al momento in cui viene enunciato ma nel tempo questo vero può diventare anche concretezza può diventare consapevolezza e può diventare coscienza sia individuale che reggitori politici questi articoli voi li conoscete e dicono che ogni individuo ha diritto l'istruzione l'istruzione deve essere gratuita per le classi elementari e fondamentali l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana al rafforzamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione ad impartire ai figli quindi sono principi chiarissimi che noi dovremmo sempre ricordare anche perché sono un lessico di dialogo con tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite qualcuno ci crede qualcuno non ci crede ma secondo me non bisogna fare queste distinzioni si parla con quelli che ci credono non si parla con quelli che non ci credono quindi questa dichiarazione universale dei diritti umani è certamente stata importante ed è anche dentro un quadro giuridico che può essere chiamato per l'applicazione di quei diritti laddove si trovino delle giurisdizioni sufficientemente forti in grado di applicare o di richiamare i principi stessi quindi le istituzioni le giurisdizioni la dichiarazione universale dei diritti umani contano molto contano molto tutti sapete e ne avete parlato in questi giorni che se è vero come è vero che le Nazioni Unite non sono riusciti a stabilire la pace universale è tuttavia anche vero che dal punto di vista della promozione dello sviluppo hanno dato dei contributi importanti sono stati ricordati in vari dei paper presentati in questi giorni i Millennium Development Goals sono stati ricordati anche i Sustainable Development Goals in ciascuno di questi il punto istruzione formazione sono sempre punti centrali nel Millennium Development Goal sono indicati al secondo punto nel Sustainable Development Goal sono indicati poco più avanti ma certamente in una posizione assai significativa quindi le Nazioni Unite non hanno portato alla pace universale ma hanno certamente contribuito allo sviluppo fissando dei principi fissando degli orientamenti che non vanno visti dal punto di vista quantitativo dicendo hanno fallito perché entro il 2030 non hanno raggiunto quell'obiettivo il movimento va nella direzione giusta e soprattutto ha costretto quasi tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite che sono 200 a fare i conti con i Millennium Sustainable Development Goal e i Sustainable Development Goal voi sapete anche che l'uno e l'altro hanno incorporato lo Human Development Index che è l'indicatore di sviluppo umano con riferimento al quale l'istruzione e l'alfabetizzazione sono diventati degli indicatori cruciali per misurare il grado di sviluppo di un paese tra l'altro è bene ricordare che questi indicatori di sviluppo umano Human Development Index sono stati elaborati prima da Mabulu Hak un pakistano e poi perfezionati da Marzia Sen un indiano anche questo spesso si dimentica la verità è che sono venuti da lì questi indicatori non li ha creati qualche cultore di forme estreme del mercatismo liberista nel contesto di qualche paese capitalista super avanzato uso delle espressioni molto forti perché si possono usare espressioni molto più garbate ma l'idea che siano venuti da lì vuol dire che la percezione dell'importanza di questo era assoluta un'ultima considerazione alla quale per la verità mi ha stimolato Monsignor Galantino e cioè il problema della parità di genere sapete che anche quello è uno dei grandi obiettivi sia del millennium che dei sustainable ed è un punto cruciale ha detto bene Galantino che le donne in quei paesi rappresentano una forza straordinaria di progresso e trovano delle enormi resistenze non solo per la loro emancipazione ma anche per la spinta al progresso che portano in quei paesi io vi cito due casi due casi che conosco direttamente perché collaboro con queste istituzioni collaboro da quando ho cessato di fare il presidente dei lincei non sapendo che il mio tempo ormai era corto che avrei dovuto ritirarmi in convento per fare meditazioni ma ho pensato che probabilmente in convento non ci sarei stato per molto e quindi ho preferito dedicarmi a quello che mi sembrava importante la prima è questa indiana allieva di Seine ma procuota anche lei dice che esagero un po' a dire che è mia allieva ma insomma alla fine posso anche dire tanto non c'è qua quindi questa indiana che si chiama Bina Agarwal che ha determinato il cambiamento della legislazione ereditaria in India è stata lei che l'ha determinato che proibiva l'eredità vietava l'eredità terriera soprattutto quella agraria alle donne perché l'eredità terriera agraria alle donne avrebbe determinato un grado di autonomia al di là delle loro credenze peculiari degli indiani avrebbe determinato un grado di autonomia probabilmente eccessivo e lei ha dimostrato con le sue analisi che le donne si mettono più facilmente in cooperativa che le cooperative delle donne voi direte adesso si passa dai grandi adiale a delle forme di produttività agraria che non fanno pandan con i grandi principi ma la concretezza è anche quella bene la produttività delle cooperative agrarie delle donne indiane è più alta della proprietà latifondistica molto più alta e delle pochissime forme di cooperative agrarie tra uomini questo è dimostrato è pubblicato e su questo lei ha preso molti premi internazionali purtroppo non ha preso il premio Nobel in questa tornata ma vi garantisco che in una delle prossime tornate lei prenderà il premio Nobel per l'economia che ha degli aspetti letteralmente vergognosi perché su 72 premi Nobel l'hanno preso una donna e mezza perché dico mezza perché Esther Duflo che peraltro lo meritava l'ha preso con altri due anche questo è incredibile per chi studia economia questo vuol dire che c'è evidentemente una disattenzione io lo dico in modo molto 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 soft che veramente è intollerabile sempre a richiamo di quanto diceva Galantino io collaboro molto in questo periodo le testimonianze personali non devono essere prese come espressioni di autocompiacimento ma anche queste vanno portate qui altrimenti che facciamo se facciamo qualcosa che non è male possiamo anche dirlo ecco allora c'è questa organizzazione delle donne scienziate del terzo mondo che è incardinata dentro la Third World Academy of Science che è la più potente associazione accademica del sud del mondo quindi America Latina Africa e Asia questa Third World Academy of Science raggruppa quasi 200 accademie ha dei capitoli continentali ed è veramente molto importante in quei paesi ebbene all'interno c'è un'organizzazione che è l'organizzazione Women Scientists Developing Countries che ha circa 10.000 aderenti non sono molte ma sono di un straordinario ruolo in quei paesi ecco queste iniziative secondo me sono molto importanti non risolveranno i problemi del pianeta non risolveranno i problemi della human development ma puntano tutto sull'istruzione sulla formazione e anche su delle forme di cooperazione tra scienziati di vari paesi scienziati in senso lato perché non sono solo ovviamente gli scienziati naturali ma anche gli umanisti sociologi economisti giuristi che sono importantissimi il rettore è ancora lì bene bene quindi l'ha sentito i giuristi sono importantissimi importantissimi perché se spesso se non si riesce a dare una valenza giuridica a una norma spesso questo danneggia l'applicazione della intenzione stessa ecco la norma è molto importante per rendere davvero concreto con altri aspetti tutto ciò l'unione europea e qui desidero concludere perché l'aneddotica può diventare anche un po' nostalgica l'unione europea ha anche lei una carta dei diritti fondamentali forse non ce lo ricordiamo ma ce l'ha questa carta dei diritti fondamentali la carta dei diritti fondamentali fu approvata nel 2000 ed è stata incorporata nel trattato di lisbona che poi è andato in completa validità giuridica mi pare nel 2009 la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e qui mi si è consentito di segnalare che il presidente della commissione europea era romano prodi a quel tempo un laureato in giurisprudenza dell'università cattolica e uno dei più attori dei più attivi attori fu Gian Maria Flick un altro laureato in giurisprudenza di questa università cattolica e questo penso che sia per noi un segno di riconoscenza per quello che queste persone hanno fatto come voi sapete l'articolo 14 precisa chiaramente che ogni persona ha diritto all'istruzione all'accesso alla formazione professionale continua questo comporta il diritto ad accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria e poi si parla di altri aspetti libertà di insegnamento e via discorrendo teniamo conto che l'unione europea andando sulla concretezza ha fatto molto per la circolazione degli studenti il programma Erasmus per gli investimenti ricerche e sviluppo l'Unione europea ha veramente dimostrato secondo me che istruzione e formazione sono due pilastri importanti della costruzione stessa i dati ve li risparmio perché sono dati a mio avviso positivi e se andiamo a vedere non solo la commissione europea ma anche il Parlamento europeo altra istituzione da molti sottovalutata si trovano delle prese di posizione e degli stimoli fortissimi alla commissione al consiglio per sostenere istruzione formazione ricerca scientifica e via discorrendo la stessa nuova neopresidente Ford e Leyen ha messo chiaramente nel suo programma questi punti e per la prima volta che io sappia ha messo assieme tutta la catena formativa ricerca scientifica istruzione formazione quindi un passo in avanti anche quello l'Europa anche in questo arriva prima perché è la prima donna che presiede la commissione europea mentre in altri grandi sistemi democratici le donne non presiedono un bel nulla salvo in Etiopia dove adesso abbiamo visto che questa signora è stata eletta presidente concludo la mia conclusione è la seguente il cattolicesimo nelle sue manifestazioni di solidarismo concreto è apprezzato dovunque è apprezzato dovunque in taluni casi ahimè è persino temuto perché si considera si scambia il solidarismo per il proselitismo e questo determina delle tristissime vicende che addolorano tutti noi nessuno almeno non io può fare il missionario io non ho la vocazione del missionario i missionari hanno una vocazione eroica che può venire solo da qualcosa che se non si ha non si ha però credo che ciascuno di noi possa svolgere la sua piccola missione e credo anche che sia importante che nessuno di noi si prefiga di svolgere missioni che vanno oltre le proprie capacità perché in quel caso l'esempio sarebbe un controesempio sarebbe cioè il controesempio di chi vuol fare tutto senza saper fare nulla per esempio concludo io ritengo che oggi le charity la filantropia necessitino di una spinta emotiva ma necessitino anche e lo uso sapendo che termine concetto uso della professionalità non c'è nulla di più scandaloso della filantropia fatta male della filantropia eventualmente addirittura coinvolta in eventi scandalosi perché questo fa un danno enorme che vanifica il lavoro di molti quindi filantropia sì opere benefiche sì solidarismo sì ma anche capacità di fare tutto ciò non improvvisazione vi ringrazio per la pazienza non ho letto quello che avevo scritto ho detto quello che mi veniva in mente spero di non avervi stancato troppo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti